Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi Conoscete questa donna? Se il suo volto non vi dice proprio nulla siete fortunati Perché significa che non è vostra madre È il 2015 quando questa donna, Ruby Frankie, decide di aprire il proprio canale YouTube I protagonisti dei suoi video saranno lei, il marito e una manica di bambini che sarebbero i suoi sei figli Ruby condividerà vlog con la sua famiglia, consigli genitoriali e vabbè in generale momenti di vita quotidiana ragazzi Il suo canale raggiungerà velocemente i milioni di iscritti, accumulerà miliardi di visualizzazioni Nel 2018 verrà nominato agli Shortsy Award come miglior famiglia di YouTube Nel 2019 verrà nominato agli Streamy Award come miglior canale per famiglie Se fossero esistiti altri premi per famiglie loro sarebbero stati sicuramente nominati Perché nessuno al tempo poteva immaginare che dietro a quei contenuti leggeri, dietro a quelle scenette di famiglia affettuosa Si nascondesse un incubo, una madre manipolatrice che sottoponeva i suoi figli ad abusi e a un certo punto anche a torture I segnali erano sotto gli occhi di tutti, erano disseminati sin dall'inizio nei suoi video su YouTube Ma c'è voluto tempo, troppo tempo purtroppo affinché ci si accorgesse di quanto stava accadendo In questi giorni si sta parlando molto di Ruby Frankie e perché? Perché ragazzi Ruby Frankie è stata appena condannata a 60 anni di carcere Questa è la storia di Eight Passengers, sigla Ruby Griffiths nasce il 18 gennaio 1982 Quindi abbiamo un bel capricorno e nasce negli Stati Uniti In particolare nello Utah Il luogo in cui nasce ragazzi ha una particolarità Perché il 62% degli abitanti sono membri della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Che può sembrare un'esclamazione, può sembrare una lamentela Tipo, oh Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni E invece è una religione, una religione vera Avrete sentito parlare qualche volta, penso, dei cosiddetti mormoni Ecco, la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni È il nome originale della cosiddetta religione dei mormoni Diciamo che mormoni è un soprannome che viene utilizzato, credo, per abbreviare il discorso La religione dei mormoni è una religione che si definisce cristiana Cioè i mormoni si reputano cristiani Però la religione cristiana non è d'accordo con questa cosa E non la riconosce come tale Questo perché? Perché gli adepti della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Credono in un testo sacro che i cristiani non riconoscono Il libro di mormon Avete presente l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento? Ecco, il libro di mormon si pone come il terzo capitolo della saga Il terzo testamento, il sequel Sto dicendo, ragazzi, lo so, una cosa molto grossolana E lo sto facendo, giusto, per semplificare in poche parole l'importanza Che ha questo testo per i fedeli della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Il libro di mormon completa gli insegnamenti della Bibbia Quindi già capite il disappunto dei cristiani Gli stanno dicendo che il loro testo sacro è incompleto In breve, ragazzi, come nasce questa religione? Era il 1800 circa Quando un ragazzino di 12 anni, tale Joseph Smith Si era trasferito con la famiglia in una fattoria nel villaggio di Palmira A New York Un luogo particolare Particolare perché caratterizzato da un risveglio religioso Risveglio religioso è l'espressione storicamente usata Per indicare il fatto che ognuno a Palmira avesse la propria religione personalizzata C'erano più religioni che fedeli C'erano i cattolici, i metodisti, i presbiteriani, i battisti, i luterani, i pastafariani E Joseph, poverino, non sapeva bene in che cosa credere C'era confuso da tutte quelle confessioni religiose Non capiva quale fosse la verità Non capiva quale fosse la religione vera E qui finisce la storia e inizia il racconto Il racconto fatto dallo stesso Joseph Smith Praticamente lui dice Un giorno ero in un bosco e mi sono messo a pregare Per chiedere a Dio di indicarmi in che cosa credere Perché avevo bisogno di un consiglio E così ho avuto una visione Dio e Gesù dice ragazzi Joseph Smith Improvvisamente si sono palesati davanti a me E mi hanno detto Guarda Joseph non vorremmo scoraggiarti Però sinceramente Nessuna delle chiese esistenti è quella giusta Quindi Lascia perdere, goditi la vita Quindi ragazzi abbiamo questa visione Di Dio e Gesù che sono pieni Degli umani che proprio non ce la fanno Qualche anno dopo Joseph sempre secondo il suo stesso racconto Avrebbe avuto un'altra visione Un angelo di nome Moroni Si sarebbe presentato a lui e gli avrebbe detto Ciao sono un profeta morto nel 400 d.C Non ti spaventare Devi sapere che esiste un testo sacro Inciso su tavole d'oro Sepolto in una collina Seguimi che te lo faccio vedere Joseph va e trova queste tavole E al che l'angelo Moroni gli dice Bene Traduscilo Buon lavoro Joseph Smith ragazzi è accollativo Bisogna dire E si mette subito al lavoro Nel 1830 esce la prima edizione Del libro di Mormon Che si diffonde rapidamente Al punto che Diverse persone si battezzano Come mormoni Ciò fa girare Gli ormoni Alle autorità religiose Che dicono No ma questo vero Dice ma ti pare che arrivi E fondi una religione Così perché hai visto un fantasma Non esiste E quindi Joseph Smith viene arrestato A questo punto però Lui non contento Si mette a scrivere Una revisione Della Bibbia Perché continuava ad avere Delle visioni Visioni Nelle quali Veniva detto da Dio Che la dottrina Che le altre chiese Insegnavano Fosse ormai Obsoleta Dio la voleva aggiornare La dottrina Voleva fare un remake Dei dogmi E proprio a Joseph Smith Aveva affidato Questo compito in grato Vallo a spiegare Ai cristiani Che la Bibbia Ormai È antiquata Vabbè ve la faccio breve Ragazzi Joseph Smith Fonda questa nuova chiesa E la chiama Chiesa di Gesù Cristo Dei Santi Degli Ultimi Giorni Perché non aveva Il dono della sintesi Evidentemente Infatti è tutto Nel nome di questa chiesa Ragazzi Punto primo È Gesù Cristo Ad averla fondata È la chiesa Di Gesù Cristo Punto secondo È una chiesa Dei Santi Solo i Santi Attenzione Possono diventarne membri Ovvero Solo le persone buone Riconosciute E certificate Come tali Da Gesù Cristo Punto terzo Gli ultimi giorni Si crede che questi Siano gli ultimi giorni Del mondo Prima che Gesù Torni sulla terra Per venire a prendere La situazione in mano Giustamente Per chi come Dio È eterno Il tempo È molto relativo Quindi sono gli ultimi giorni Da ormai diversi secoli Ovviamente ne ho fatto Una spiegazione ironica Ragazzi Spero che non sia interpretata Come un voler ridere Di chi Crede in questa religione Assolutamente È un modo Per spiegarla In modo leggero E farla arrivare Con simpatia Andiamo alla parte Su cosa ragazzi In cosa credono Questi fedeli In cosa credono I Santi Degli ultimi giorni Quali sono Le caratteristiche Di questa religione I fedeli Della chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli ultimi giorni Credono Nella famiglia eterna Se ti sposi Non è finché morte Non vi separi Attenzione È per l'eternità È forever Quindi ci devi pensare bene Perché manco la morte Ti salverà Da una scelta di merda I figli Che nasceranno Da questi matrimoni eterni Faranno parte Di una Famiglia eterna Ora Essendo una religione Che romanticizza molto L'idea della famiglia Perché la famiglia è proprio L'anima ragazzi Di questa religione È anche logico Che i membri Di questa chiesa Siano innamorati Del concetto Di famiglia Al punto che figliano Come conigli Le famiglie dei Santi Degli ultimi giorni Sono spesso numerose Soprattutto in America Ragazzi Soprattutto in America Non è raro Imbattersi In famiglie Composte da 5, 6, 7, 8, 9 10 figli Tanto che In molti si chiedono Ma non sarà Che questa chiesa Vieta l'uso Dei contraccettivi Ebbene No Una ragazza di nome Eleonora Che è una delle poche Sante degli ultimi giorni Italiane È stata così gentile Da spiegarmi Qualcosina Sulla sua fede Innanzitutto L'uso della contraccezione Non è vietato Dalla chiesa di Gesù Cristo Dei Santi Degli ultimi giorni È vero Che ci sono Delle regole Che limitano Diciamo La sessualità Però non c'è scritto Da nessuna parte Che non puoi usare Il preservativo Le regole del sesso Non sono molto diverse Da quelle di qualunque Altra confessione cristiana Allora Uomo e donna Non possono avere Rapporti prima del matrimonio Dopodiché Possono tranquillamente Darsi alla pazza gioia Ma Solo Tra di loro Cioè Puoi farlo solo Con il coniuge Tra l'altro Ragazzi Attenzione Uno dei luoghi comuni Sui mormoni È che siano poligami Effettivamente Tra il 1852 E il 1890 Mi scrive Eleonora La poligamia Ha fatto parte Della nostra chiesa Ma dopodiché Basta Cioè a un certo punto Si è deciso Di cambiare regime E sta di fatto Ragazzi Che le famiglie poligame Non facciano più parte Della chiesa Da oltre 100 anni Anzi a un certo punto Alcune persone Sono state proprio Scomunicate In quanto poligame Perché non è proprio Più contemplata La poligamia Così come non lo è Nelle altre confessioni cristiane E quindi ragazzi Mi scrive Eleonora Come puoi immaginare Molti membri della chiesa A quel tempo Sono nati in famiglie poligame E sono stati cresciuti Con un certo credo Ed era tutto quello Che conoscevano Quindi In molti Non hanno preso bene Questa decisione E così si sono formate Le varie chiese Fondamentaliste E sono quelle Che fanno parte Di tanti documentari O serie tv Come Big Love E che purtroppo Sono state terreno fertile Per abusi sessuali E pedagogia Ci tengo però A specificare Che non fanno in alcun modo Parte Della chiesa di Gesù Cristo E dei santi Degli ultimi giorni La poligamia È assolutamente Vietata Nella nostra chiesa Anche se fa parte Della sua storia E fino a questo punto Sembra che La chiesa di Gesù Cristo Dei santi Degli ultimi giorni Non si discosti Molto da altre Confessioni religiose In termini di Regole e restrizioni Tuttavia ragazzi Una distinzione c'è Ed è la severità Con cui le regole Vengono applicate Per esempio Mettiamo che tu Violi la legge di castità E mettiamo che Per qualche motivo Si viene a sapere Ecco Se nella chiesa cattolica Ti basta recitare Due preghierine Un Ave Maria Un Padre Nostro E Dio ti perdona Con una pacca divina Sulla spalla Nella chiesa Di Gesù Cristo Dei santi Degli ultimi giorni Rischi di essere punito Rischi di essere Sospeso Per un periodo E di essere escluso Dalla comunione Domenicale Per un certo tempo O in alcuni casi estremi Di essere addirittura Scomunicato Se tipo questi rapporti Extramatrimoniali Avvengono ad esempio Tra omosessuali Ma Le rigide regole Imposte dalla chiesa Di Gesù Cristo Di tanti degli ultimi giorni Non riguardano Solo la sfera sessuale Per esempio La domenica Si va in chiesa E fino a qui Direte Vabbè Grazie Ci sta Ma il punto è Che si va in chiesa E basta Cioè non si può fare Nient'altro Non è che puoi Lavorare Studiare Fare sport Fare shopping Durante la giornata Uscire Viaggiare Guardare la tv Andare al cinema Prendere la macchina La domenica È il giorno In cui ti devi dedicare Alla preghiera E una domenica Al mese Non si può neanche mangiare Perché si fa il digiuno Inoltre ragazzi I fedeli Non possono assumere E non possono fumare Non possono assumere Il caffè L'alcol E le bevande calde Praticamente È un'ottima religione Per chi soffre Di reflusso gastrico Però ragazzi Ho il dovere Di sottolineare una cosa Sebbene la chiesa Di Gesù Cristo Di santi Degli ultimi giorni Possa apparire rigida Sui suoi siti ufficiali Si legge chiaramente Che i genitori Devono educare I figli Con amore Che bisogna creare Un ambiente amorevole In cui i bambini Possano crescere Ed essere sostenuti Perché i figli Sono doni di Dio Tutto ciò ragazzi Capirete presto Perché ve lo sto specificando Torniamo a Ruby Griffiths Entrambi i genitori Di Ruby Griffiths Sono membri Della chiesa Di Gesù Cristo E dei santi Degli ultimi giorni Da generazioni Tuttavia Non sono una famiglia Molto numerosa Infatti Ruby Ha solamente Tre sorelle E un fratello È molto legata Alla sua famiglia Ma in modo particolare È legata A sua madre Tanto che In futuro dirà Mia madre È stata La migliore persona Che potessi avere Come caregiver Infatti la madre A detta sua Faceva molti sforzi Per renderla felice Per esempio La portava a fare shopping Il giorno del suo compleanno Questo farà crescere Ruby Con la voglia Di insegnare Alle nuove generazioni Il valore della maternità Soprattutto a coloro Che mancano Di rispetto Alla propria madre Pensate se sua madre Le avesse fatto anche La torta Il giorno del suo compleanno Una volta diventata grande Ruby si iscrive All'università Per studiare Contabilità Una materia che come vedremo Le servirà moltissimo In particolare Studia Alla Utah State University Dove la vita universitaria È molto molto attiva E infatti È proprio qui Che Mentre si trova Al chioschetto Per prendere un hot dog Conosce Kevin Kevin Frankie Kevin è un ragazzo Che ha 4 anni più di Ruby Studia ingegneria Ed è anche lui Un membro Della chiesa di Gesù Cristo Dei Santi degli Ultimi Giorni Ruby si innamora Di quest'uomo Conosciuto al chioschetto Dei Vustel I due si frequentano E nel frattempo Kevin continua a studiare Nel 2003 Kevin Frankie Si laureerà In ingegneria civile Poi conseguirà Il master nel 2006 Poi conseguirà Un dottorato di ricerca Sempre in ingegneria civile Nel 2012 Poi diventerà Professore Assistente Una cosa del genere Di ingegneria civile Alla Brigham Young University Nonché Un ingegnere Vero e proprio E poi basta ragazzi Perché oltre questo Può solo diventare Un'intelligenza artificiale Tipo Will Caster In Transcendence Ruby invece Per come conosce Kevin Lascia gli studi Perché ha capito Che tanto lui Studierà per due Ruby e Kevin Si frequentano Per due anni Dopodiché Si sposano Nel tempio Di Logan Perché la chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli ultimi giorni Ha dei templi Che sono i luoghi Di culto Più sacri In assoluto Ed è nei templi Che si celebra L'unione Delle famiglie Eterne Ruby Griffiths Diventa ufficialmente La signora Ruby Frankie Il fatto che Ruby Abbia sposato Un uomo identico A suo padre Non è assolutamente Una red flag E soprattutto Non è assolutamente Inquietante Da questo momento In poi Ruby e Kevin Si mettono a sfornare i figli Come fossero biscotti Ne fanno uno Puntualmente Ogni due anni Perché Ruby Ha studiato contabilità E ci tiene Alla precisione Ci tiene proprio In modo Millimetrico Nel 2003 Nasce la loro prima figlia Shari Due anni dopo Nel 2005 Nasce il secondo figlio Chad Due anni dopo Nel 2007 Nasce la terza figlia Abby Due anni dopo Nel 2009 Nasce la quarta figlia Julie Due anni dopo Nel 2011 Nasce il quinto figlio Russell Due anni dopo Nel 2013 Nasce la sesta Figlia Eve Due anni dopo Nasce il canale YouTube Di Ruby Frankie E di cosa potrà mai parlare In questo canale YouTube Ruby Frankie Ovviamente Della sua famiglia numerosa Il canale si chiamerà Eight Passengers Ovvero Otto passeggeri Gli otto passeggeri Sarebbero proprio Lei Suo marito Kevin E i sei figli Ancora una volta Gli studi in contabilità Tornano utili A Ruby Il primo video del canale Si intitola The making of Eve Titolo che in italiano Possiamo tradurre in La creazione di Eva Di Eve Vi riassumo il contenuto Di questo primo video All'inizio vediamo Ruby incinta Circondata dai suoi Altri cinque figli Mentre si prepara A tagliare una torta Che rivelerà Il sesso Del nascituro Si scopre Che sarà Una femminuccia Poco dopo Nello stesso video Eve nasce E vediamo come viene Accolta con affetto Dai suoi fratellini E dalle sue sorelline Le scene successive Mostrano Eve Crescere insieme Ai suoi fratellini E alle sue sorelline Fine Quando questo primo video La creazione di Eve Viene pubblicato È il 2015 Eve ha due anni Russell 4 Julie 6 Abby 8 Chad 10 E Shari 12 Non garantisco L'accuratezza dell'età Visto che non ho studiato Contabilità Il canale 8 Passengers Si configura Sin da subito Come un family channel Cosa sono I family channel Family channel Un family channel Su youtube È un canale Gestito Da una famiglia Questi canali In genere Pubblicano vlog Ovvero video Che documentano La vita quotidiana Oppure pubblicano Sfide divertenti Video di viaggi E molto altro ancora Tutti video Concepiti Per essere adatti A un pubblico Di tutte le età I family channel Sono simpatici Ma possono Nascondere Dei lati Oscuri Parliamo infatti Di canali In cui I veri Protagonisti Sono i bambini Sono loro Che attraggono Il pubblico Principalmente Eppure a gestire Eppure a gestire i canali Sono ovviamente I genitori Gli adulti E i genitori Che utilizzano I loro figli Come fonte di guadagno Sono una questione Da trattare sempre Con le pinze Con estrema attenzione Purtroppo Soprattutto in america Non è raro Che questi Family channel Scadano Nello sfruttamento Minorile Più becero La privacy Viene spesso Sacrificata Sull'altare Del profitto Alcuni genitori Dei family channel Non esitano A umiliare I propri figli O addirittura Creare situazioni Finte Per ottenere Più visualizzazioni E di conseguenza Per fare Più soldi Se disperatamente Mamma Vi ha indignati Alcuni family channel Americani Potrebbero provocarvi Un'ulcera gastrica Vi faccio qualche esempio Amaro Sul canale Actively family Troviamo video Come questo Metodo di addestramento Al vasino In tre giorni In questo video Un bambino Figlio della youtuber In questione Viene messo A sedere Sul vasino Con tanto Di mutanda Abbassata Mentre viene ripreso Da una telecamera Nascosta Ora Ho una domanda Per voi Se vostra madre Avesse un video Di voi Che cagate nel vasino All'età di tre anni E vi chiedesse Oggi il permesso Di pubblicare Tale video Su youtube Voi cosa Le rispondereste Io penso Che la risposta Più frequente Sarebbe Non ti azzardare Madre O mi drogo Ebbene Questo video Conta ad oggi 1,5 milioni Di visualizzazioni Il bambino Un giorno Sarà adulto E dovrà fare pace Col fatto Che 1,5 milioni Di persone Lo abbiano visto Cagare nel vasino Però Quanto meno Questo video Per qualcuno È utile Cioè per esempio I genitori Che si trovano In difficoltà Nel processo Di addestramento Al vasino Del proprio figlio Possono Accedere A sto tutorial Di questa signora E imparare Dai suoi insegnamenti Anche se Il prezzo Da pagare È che suo figlio È stato usato Come un fantoccio Però Quanto meno Questo video Ha un'utilità Purtroppo Ci sono canali Ai quali Questa attenuante Non si può applicare Canali come The Labrant Family Gestito da due genitori Che con i video Documentano Le loro vite familiari Con i loro Quattro piccoli figli Il canale Conta ben 12,9 milioni Di iscritti Vi faccio ora Un elenco Degli stati americani Con una popolazione Inferiore A 12,9 milioni Di persone Wyoming Vermont Alaska Dakota del Nord Dakota del Sud Entrambe sommate Tra loro Delaware Montana Rhode Island Maine New Hampshire Hawaii Tutti questi stati americani Sommati insieme Fanno circa 11 milioni Di abitanti Ma il canale The Labrant Family Ha 12,9 milioni Di iscritti E questi 12,9 milioni Di iscritti Se li sono guadagnati In modi Come dire Ragazzi Molto creativi Nel 2018 The Labrant Family Ha pubblicato Un video Dal titolo Un gigantesco incendio Ci fa evacuare La nostra casa Era il periodo In cui la California Era travolta Dagli incendi Un disastro Che ha causato Circa 76 morti E oltre 1000 dispersi Nel video I due genitori Affermano di avere Ricevuto ordine Di evacuazione A causa Di un enorme incendio Nel quartiere E li vediamo Fuggire in auto Ma tranquilli ragazzi Per fortuna È tutto fake Poco dopo La pubblicazione Del video Infatti I loro vicini Di casa E i vigili Del fuoco Hanno avvisato Il pubblico Che questi Erano completamente Fusi Perché non avevano Ricevuto Nessun ordine Di evacuazione Anche perché Non erano Neanche vicini All'incendio Ad oggi Il canale Ha modificato Il titolo Del video In Abbiamo lasciato La nostra casa A causa Degli incendi In California Nel 2021 La famiglia Labrante Ha pubblicato Un video Intitolato L'è stato Diagnosticato Il cancro Inducendo gli spettatori A pensare Che una Delle loro figlie Fosse malata Il video È stato pubblicato In premier Creando Un'enorme Attesa Con un conto Alla rovescia E permettendo Ai followers Di chattare In tempo reale Durante la visione Questa Cioè la premiere È una cosa Che si fa Per i video Che fanno Tanto hype Che sono Molto molto Attesi Ma guardando Il video Si scopre Che non è Come sembra Praticamente Che cos'era Successo Ragazzi Una delle loro figlie Aveva avuto Dei sintomi vaghi Tipo dolori Alle gambe Lividi Alle gambe Il che Aveva portato Il padre A ipotizzare Che potesse Avere La leucemia Pur avendo Sottoposto La bambina A esami Che escludevano Completamente Questa diagnosi Sia lui Che la moglie Si erano convinti Racconta il padre In questo video Che la figlia Avesse la leucemia E dicono Nel video Noi sapevamo Benissimo Cosa stesse Facendo Dio Stava facendo Ammalare Nostra figlia Perché voleva Che usassimo Il nostro canale Per sensibilizzare Sul cancro infantile E così abbiamo Deciso di realizzare Questo video In cui raccontiamo La storia Di alcuni bambini Malati affetti Di cancro In ultima istanza No ragazzi Nessuna delle loro figlie Per fortuna Era affetta Da questa malattia I genitori Avevano Deliberatamente Scelto Questo titolo Sensazionalista Solo per attirare L'attenzione Improvvisamente Chiara Ferragni Non sembra più Tanto male I family channel Quindi hanno Dei lati oscuri Ma 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 Torniamo al canale Hate Passengers Questo canale Si distingue Dagli altri Family channel Si distingue Perché i contenuti Di Ruby Franchi Si concentrano Molto Sull'educazione Dei suoi sei figli Cioè lei parla Molto Nei suoi video E si vanta Molto Dei modi In cui lei Educa I suoi figli Avete presente Il carcere In confronto a Casa Franchi E un centro benessere Ora Siccome ogni canale Attira un pubblico Specifico Quale tipo di pubblico Attira Hate Passengers Ovviamente Le famiglie Chi è interessato A mettere su famiglia Chi ha già una famiglia Ed è in cerca di consigli Su come educare i figli E su come disciplinare Dei bambini esaltati Che disobbediscono Urlano Picchiano Tentano 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 di rovesciare Il governo Tutto ciò Significa che Ruby Frankie Attraverso il suo canale Hate Passengers Influenza Il modo In cui Altri genitori Trattano i loro figli Ora Inizialmente Ragazzi I video di Ruby Frankie Erano Leggeri Cioè tutto quello Che trovavamo Nei suoi contenuti Era Niente più Di lei Che accompagnava I figli A scuola Oppure Dava consigli Su come gestire Il budget E pianificare Le faccende Domestiche Insomma Un family channel Come un altro Ma Il canale Hate Passengers Diviene sempre Più popolare Raggiunge in pochi mesi Il milionazzo Di iscritti E Ruby Frankie Si trasforma In una sorta Di guru Dell'educazione Genitoriale Perché pur Avendo un esercito Di sei figli Lei Non si sa come Sembra avere il potere Di mantenere l'ordine Nella sua giungla Di famiglia Sti bambini Sono tutti Tranquilli Riposati Educati Pronti a collaborare In un clima Di armoniosa Obedienza E utopia Ragazzi C'è giustamente I genitori Che guardano I suoi video E che magari Hanno un solo Figlio piccolo E non riescono Manco a lavarsi Le mani Senza ritrovarselo Appeso sul lampadario Con la candeggina In mano Si chiedono Questi genitori Ma come è possibile Cioè come fa E così La popolarità Di Ruby Frankie Cresce Il suo canale Youtube Raggiungerà Due milioni E mezzo Di iscritti E Ruby Frankie Si sentirà Sempre più a suo agio Nel ruolo Di guru Dell'educazione Ma ben presto I suoi metodi Educativi Cominceranno A preoccupare Alcuni spettatori Un giorno Ruby Sta registrando Un vlog E mentre parla Alla telecamera Dei fatti suoi Riceve un messaggio Dall'insegnante Di sua figlia Eve Al che Ruby Parla Del contenuto Di questo messaggio Ai suoi spettatori Nel messaggio Praticamente La maestra Dice a Ruby Che la bambina Non ha portato Il pranzo E ha fame E in sostanza Vorrebbe che Ruby Le portasse il pranzo A scuola Poverina Ebbene Ruby Spiega agli spettatori Di non avere Alcuna intenzione Di portare il pranzo A sua figlia Dal momento Che era responsabilità Di Eve Prepararsi il pranzo E portarselo a scuola L'ha dimenticato Quindi niente pranzo Così impara La prossima volta Non lo dimenticherà Eve Sei anni Ruby dice inoltre Ai suoi spettatori Io ho spiegato All'insegnante La situazione E le ho detto Che nessuno Deve offrire Del cibo A mia figlia E nessuno Le deve comprare Il pranzo Perché altrimenti Non imparerebbe La lezione Invece così ragazzi La piccola Eve Imparerà sicuramente La lezione Cioè imparerà A procacciarsi Il cibo Da sola Nei boschi Ciao ragazzi Sono l'Iris del futuro Qui nel futuro Ho scoperto un cassonetto Di monnezza Di schifezze Che mi erano sfuggite Prima Quindi mi vedrete Comparire spesso Probabilmente Dunque A quanto pare Ruby Ci tiene molto A questa cosa Che i suoi figli Ce la facciano Da soli Tanto è vero Che quando sua figlia Eve aveva 4 anni Spesso la portava In ritardo All'asilo E perché la portava In ritardo All'asilo Perché era Responsabilità Di Eve Svegliarsi presto La mattina Se non si svegliava Presto da sola Niente Fatti i suoi Non andava All'asilo Oppure ci andava In ritardo Non so come Una bambina Di 4 anni Possa Avere Le capacità Di impostare Una sveglia Dal momento Che a 4 anni Che io sappia Non sanno Cioè la maggior parte Dei bambini Non sanno Neanche leggere L'orologio Però Oh che volete Ragazzi c'è Ruby Comunque si aspettava Da sua figlia Che ogni mattina Alle 6 Alle 7 Come un soldato Alza bandiere Prepariamo lo zeno Per andare all'asilo E mi raccomando Non dimentichiamo La merenda Sebbene Non possiamo Neanche assumere Il caffè Come fanno i grandi Perché punto primo Abbiamo 4 anni E punto secondo Perché la religione Non ce lo consente A tal proposito A proposito Del fatto che Ruby E Kevin Ci tengano molto Al fatto che i figli Ce la facciano Da soli C'è anche un video In cui Tutti e due Ruby e Kevin Ammettono Di non avere Nessuna certezza Che i loro figli Si lavino i denti Perché mica gli supervisionano Le bocche Che cacchione sanno Cioè Alla fine È responsabilità Loro Lavarsi Quindi se vi stavate Chiedendo Ma come hanno fatto Questi a fare Se i figli Tutti sti figli Ecco Avete la vostra risposta Ragazzi Gli richiedono L'impegno Di sei pesci rossi Eve comunque Non è l'unica figlia Che Ruby Lascia morire Di fame a scuola Infatti È successa Una cosa molto simile Anche All'altro figlio piccolo Russell In un vlog La vediamo parlare Al telefono Con suo figlio Russell Russell All'epoca Nove anni Praticamente Lei diceva Mamma Ho dimenticato I soldi a casa I soldi per comprarmi Il pranzo Per favore Mi porti qualcosa Da mangiare Che c'ho fame La risposta Di Ruby Ragazzi Ve la faccio Direttamente sentire Quindi Ruby Si aspetta Perfezione Dai sui figli Non possono sbagliare Perché altrimenti Pagano Le conseguenze Dei loro errori Anche se lei Ha Gli strumenti Per Aiutarli Per Far sì che Quelle conseguenze Di questi errori Comunque involontari Comunque Fatti in buona fede Cioè non è che Dici hanno fatto Del male a qualcuno Un errore di distrazione No Il bambino di nove anni Si è dimenticato I soldi del pranzo a casa E anche se lei Avrebbe tutti gli strumenti Per poterlo aiutare Potrebbe prendere la macchina E andare da lui Portandogli I soldi Per mangiare O portandogli Non lo so Una treccina Che cacchio si mangiano In America Un hot dog Un pancake Lei potrebbe farlo Ma non lo fa L'unico supporto Che lei offre a Russell In questa situazione È dirgli Tesoro Mi dispiace Che ti stia succedendo questo Grazie per la comprensione Mamma Ma Se non posso mangiarla La tua comprensione Non mi serve Per il momento Con la piccola Eve Che è la figlia Più piccolina Ruby Sa essere particolarmente Spietata Ad esempio La piccola Eve Qui dovrebbe avere Circa quattro anni Quando si ritrova A dover implorare Perdono alla madre Senza letteralmente Avere fatto Niente Ragazzi Niente Se non Chiederle Mamma Che film Stiamo andando a vedere Al cinema Di fronte a questa domanda Ruby si prende male Manco se sua figlia Di quattro anni Le avesse detto Sei una grandissima E pertanto La rimprovera Severamente Perché Perché non si chiede Che film Stiamo andando a vedere Al cinema Soprattutto con questo tono Un po' scazzato Bisogna solo essere grati Che nostra madre Ci stia portando Al cinema E mostrare gioia E gratitudine La bambina Al rimprovero Di sua madre Reagisce In modo docile Abbassa la testa Abbassa gli occhi È mortificata Si vede proprio Che è in difficoltà Eppure Ruby Non contenta Chiama la babysitter La chiama Al telefono Davanti a sua figlia Eve Facendole capire Che la vuole lasciare A casa Non se la vuole più Portare al cinema Perché non merita Di andare al cinema Mentre Ruby Parla al telefono Con la babysitter La bambina Si scusa Con lei Sommessamente Molte volte Le dice Mamma mamma Scusa Scusa We are going To a movie So go get On your shoes What is it? Does it even matter If someone asked me If I wanted to go To a movie I wouldn't ask What is it? Run and get your shoes Or you're gonna not go Hurry Everyone run Hey, this is Ruby I was wondering Is Brooke Available to babysit? Sorry Alla fine ragazzi Conclusione La babysitter Non era disponibile Quindi Ruby Decide Di perdonare La bambina Come umana Lei In questo video Invece Ruby Racconta di quella volta In cui Eve L'ha svegliata Alle due di notte Perché aveva bagnato Il letto Capita no? Ai bambini Di riempire Il pannolino E bagnare il letto Oppure Quando sono più grandi Di non trattenere La pipì nel sonno Perché magari Non sono ancora Tanto abituati Al gabinetto E quindi bagnano il letto Insomma è successa Una situazione Spiacevole Di questo tipo Al che Dice Ruby Io le ho detto Non ti preoccupare Amore Vai a dormire Nel pavimento Del bagno E lo racconta Come se fosse Una cosa normale Cioè lei Non è che si è alzata Ha cambiato le lenzuola Alla bambina Oppure se proprio C'aveva troppo sonno Non c'aveva voglia L'ha messa nel letto Con lei L'ha fatta dormire Con lei No L'ha spedita Con molta noncialanza A dormire Nel pavimento Del bagno Sempre in virtù Del fatto Che quando Commetti Un'azione Ne paghi Le naturali Conseguenze Questo anche se I tuoi genitori Le persone Che più di chiunque Altro Dovrebbero esserti Di supporto Hanno gli strumenti Per aiutarti E farti stare meglio Ma non lo fanno Non lo fanno Te ne privano Vedo già All'orizzonte L'attaccamento evitante Che svilupperanno Questi ragazzi Non finisce Qui In quest'altro video Mostra alla bambina Il suo peluche preferito E le dice Se tagli un'altra cosa In casa mia Io andrò a prendere Le forbici E gli taglierò la testa La bambina Scoppia in lacrime Il peluche Per una bambina Così piccola È un oggetto di conforto È un oggetto che Stringe quando ha bisogno Di sentirsi al sicuro Quindi Nel momento in cui Sua madre Minaccia di tagliargli la testa Il suo spazio sicuro Viene minacciato Viene messo in pericolo E questo può causare Ansia A una bambina Così piccola Cioè qui Eve ragazzi Avrà avuto Sieno tre anni Oltretutto Ciò che sta insegnando Ruby a questa Bambina di soli tre anni È che va bene Usare la minaccia Va bene Usare il ricatto Va bene ricorrere Ai comportamenti Coercitivi Per risolvere I problemi E ottenere Quello che vuoi Un modello di comportamento Che la bambina Da grande Potrebbe replicare Non solo Con i suoi stessi figli Se ne avrà Ma anche Con altre persone In generale Senza contare Il disturbo post-traumatico Da stress Che Ruby sta causando Al pupazzo Ma purtroppo Non finisce qui Un giorno Ruby Frankie È in auto Con uno dei suoi figli Credo che sia Russell Quando a un certo punto Hanno un incidente Con la macchina O meglio Ruby riesce A sterzare Però L'altra macchina Che andava A loro incontro Si scafazza Come si dice Si schiaccia Come una lattina Di coca cola Ruby sta registrando La situazione Si accosta Si assicura Che le persone Coinvolte Nell'incidente Stiano bene Dopodichè Rientra in auto E suo figlio Russell Dice a sua madre Questo è stato Il mio primo incidente Giustamente Russell qua È piccolo Avrà circa 4-5 anni A guardarlo E cosa risponde Ruby A suo figlio Gli risponde La cito testualmente Ragazzi Vi riporto Quello che Dice al bambino Voglio dirti una cosa E voglio che tu Mi ascolti davvero Sarebbe potuto Succedere a noi Potevamo esserci noi Al posto di quell'auto Ma si Traumi gratis Ma andiamo avanti Ruby Frankie Nei suoi video Si vanta di non garantire La privacy ai propri figli Ad esempio In un video Durante un pranzo in famiglia Vediamo Ruby Sorprendere uno Dei suoi figli Chad A scrivere un messaggio Sul cellulare Di nascosto Al che Papa Kevin Sequestra il telefono Al figlio E tenta di leggere Il messaggio Che Chad Stava scrivendo In un primo momento Non ci riesce A leggere Questo messaggio Perché Perché il telefono Di Chad È questo Un telefono Un po' Retro Diciamo Con i tasti fisici Quindi Cosa fanno Ruby e Kevin Affrontano la situazione Con maturità E si mettono A ridere Del fatto Che il telefono Di Chad Sia un cimelio E fino a qui Vabbè dai Si scherza A questo punto Ruby interviene E dice Ve la cito testualmente L'unico lato negativo Di dare ai tuoi figli Un cellulare pieghevole È che giuro Che devo ricordarmi Come funziona Ogni volta che lo uso Quindi in pratica Ruby e Kevin Stanno deridendo Un po' Il loro figlio Di fronte a milioni Di persone Per l'uso Di un telefono Obsoleto Che loro stessi Gli impongono Questo a me è sembrato Sin da subito Un gioco di potere Perché i genitori Marcano attraverso La derisione L'inferiorità Del figlio Rispetto a loro Noi possiamo E tu non puoi Ma magari Fosse questa La parte critica Del video Ragazzi Magari Sarebbe una fortuna Dopo aver sequestrato Il telefono al figlio Papa Kevin Decide Di leggere Ad alta voce Il messaggio privato Che il figlio Stava scrivendo A Una ragazza Un messaggino dolce E in teoria Molto personale La madre Rubial Che si mette A fare L'interrogatorio Al figlio Sulla sua vita Sentimentale Chi è questa State insieme Ti piace veramente Insomma il figlio Ragazzi viene messo In imbarazzo E manco nel privato Della sua cucina Se di privato Si può parlare Visto che sono in otto Ma davanti alla telecamera In un video Rubi vieta Vieta l'uso Del telefono A tavola Lei se ne sta Tutto il tempo Con la telecamera In mano A riprenderli Molto coerente D'altro canto In casa Franchi E' già un miracolo Che uno dei figli Abbia addirittura Un telefono Infatti Rubi Questo istituto Penitenziario Di donne Spiega in un altro video Che quando i suoi figli Portano a casa Brutti voti Lei sequestra loro Ogni dispositivo Elettronico Telefoni Telecomandi Televisione Anche i passmaker Gli sequestrerebbe Se li avessero Tra l'altro Sempre a proposito Dei dispositivi elettronici In un altro video Ancora Rubi Spiegherà Che Secondo lei I genitori Dovrebbero insegnare I figli A gestire il tempo Che trascorrono Con il telefono Ma Lei non ne ha voglia Dice Io non ne ho il tempo E quindi L'unica soluzione ragionevole E toglierglieli del tutto E quindi Lei in sostanza Sequestra Continuamente Telefoni Cellulari Perché Boh Non vuole Che li usino Che poi Dove se li tiene Tutti questi telefoni Dove li conserva Nella tuta gold Ma Fin qui non è niente di diverso Da quello che fanno Tanti altri genitori No? Però lei non lo fa Per qualche ora Lei lo fa Per tutta l'estate Ma tanto Come scopriremo Tra poco Lei impedisce Anche ai suoi figli Di avere amici Quindi che fa Ci fa niente A chi vuoi che telefonino Al 911 Al telefono azzurro Ciò che capisco chiaramente È che questi ragazzi Non hanno i mezzi Per guardare i video Caricati dalla loro madre Su YouTube Video che ritraggono Loro e i loro momenti Di vita quotidiana A proposito di dispositivi elettronici Il momento è propizio Per presentarvi Lo sponsor del giorno NordVPN Grazie NordVPN Che anche oggi Ci permetti di portare Avanti questa baracca Vivete all'estero Ma volete comunque Accedere al catalogo Netflix italiano Perché abbiamo Le ultime stagioni Di mare fuori NordVPN Vi consente di navigare Come se foste in Italia Grazie alla sua Mappa magica Vi porto nella mappa Di NordVPN Eccoci qua Mettiamo che vivete A Hong Kong La vostra connessione Sarà geolocalizzata Qui No Dov'è Hong Kong Cliccate sull'Italia Ed ecco che il vostro PC Penserà che siate Rimpatriati Quando aprirete Netflix Infatti vi ritroverete Davanti al catalogo Italiano Io personalmente Con NordVPN Sono riuscita a vedere Documentari disponibili Solo in Gran Bretagna Film su piattaforme Disponibili solo Negli Stati Uniti Video su YouTube Che sono bloccati In questo paese Serie TV Non ancora rilasciate In Italia Capita io mi sento Una spia Dell'intelligence E invece sono solo Una persona media Che forse passa Troppo tempo in pigiama E fa abuso di popcorn Ma questa è un'altra storia Ok basta Il tutto l'ho fatto Ragazzi Mantenendo la mia Connessione più sicura Perché in teoria I cybercriminali Grazie a NordVPN Dovrebbero incontrare Molte difficoltà Nel lacherarmi E mi dispiace Cybercriminali Non saprete mai I miei segreti Ma chi ti caga Abbattete le barriere geografiche E navigate in tutto il mondo Finché vostra madre Non vi sequestrerà I dispositivi elettronici Quanto meno La festa di compleanno Di NordVPN Non è ancora finita E questo significa Che potete ancora Usufruire delle promozioni Ovvero Acquistando il piano biennale Tramite il link Che vi lascio Nell'info box E anche nel primo commento Riceverete Non solo Quattro mesi extra Per voi Ma anche Un coupon Di tre mesi Da regalare A chiunque Vogliate NordVPNare NordVPNatevi E fate anche voi Sto regalo A NordVPN Se la punizione Del togliere I figli I dispositivi elettronici Non vi sembra Abbastanza severa Come comprensibile Possiamo alzare L'asticella In questo video I due fratelli Giocano a farsi Il solletico Quando La madre Si arrabbia Interviene E ordina loro Di farla finita Loro continuano A giocare Continuano a farsi Il solletico Al che Mamma Ruby Dice Ve lo dirò Solo un'altra volta E poi perderete Il privilegio Di cenare Per Ruby Francky Scenare È un privilegio Capito Non è un diritto Umano Lei Il cibo Lo detiene E lo distribuisce Solo a chi Se lo merita Ancora una volta Un gioco di potere In cui lei È superiore E i figli Inferiori Ma lei è superiore A tutti Non solo Ai suoi figli Infatti Se ci pensate Nessuno può togliere A lei la cena Giudicando il suo Comportamento Altrimenti Ragazzi Fidatevi Peserebbe 10 chili A proposito Di detenere Il cibo E usarlo Evidentemente Sebbene Abbia Solamente 4 anni Comincia Un po' A rompersi Le pali E quindi Ruby Dice Mi sa che Eve Non farà Colazione Oggi C'è inoltre Quest'altro Video In cui Ruby Dice a Eve Smetti Di piangere Di piangere O non Farai Colazione Peraltro Se proprio Vogliamo Fare i pignoli Usare il cibo Come ricompensa Per modellare Il comportamento Dei figli Non Cioè È inadeguato Secondo i manuali Di pedagogia Perché Perché influenza Negativamente La relazione Dei bambini Con il cibo Infatti Il loro cervello Va ad associare La fame Alla sensazione Di preoccupazione Provata Nel momento In cui Hanno fame E così Il bambino Una volta Diventato Adulto Quando si sentirà Preoccupato Avrà voglia Di mangiare Possibilmente Si abbufferà Magari Perché c'è Questa associazione Fame Preoccupazione Nella sua mente O al contrario Quando si sentirà Insoddisfatto Di sé Potrà punirsi Negandosi il cibo Come sua madre Faceva con lui È chiaro Che non è detto Che si scatenino Disturbi alimentari Però Qualche base La si sta ponendo E poi Non è l'unico motivo Questo Per cui È sconsigliato Utilizzare il cibo Come Minaccia Il cibo Ragazzi È sopravvivenza E siamo fatti Per volere sopravvivere Anche i bambini Vogliono sopravvivere Prima di tutto Oppure prima di giocare Per cui Se neghi a tuo figlio Il cibo A un certo punto Inizierà a covare Il rancore Verso di te Perché tu sei Il nemico Che mette Arrepentaglio Il suo cibo La sua sopravvivenza E alla fine Inizierà a ribellarsi Perché tu sei Causa di carestia E povertà Cioè tu sei una minaccia Puoi portargli via il cibo Ma le punizioni Imposte da Ruby Franky ai suoi figli Si spingono decisamente Oltre In un vlog del 2019 Ruby dice Vi riporto cosa dice Ho dovuto punire Chad Per alcuni comportamenti Sbagliati Quindi Gli ho tolto la porta Della sua camera da letto E l'ho chiuso fuori casa Per ore Aspettando che si scusasse Ho trovato inoltre Un video di Ruby Ruby e Kevin In cui Spiegano Di essersi accorti Che Chad Si comportasse In qualunque situazione In modo Irresponsabile Eccetto Che nel football Quando va Agli allenamenti Di football Chad Sembra Un'altra persona Dice Ruby È responsabile Si presenta puntuale Fa tutto quello Che gli chiedono Di fare gli allenatori Aiuta i suoi compagni Insomma Lo adorano tutti E quindi Spiega Ruby In questo video Visto che Il football È l'unica situazione In cui lui Si mostra Responsabile Allora Ce ne siamo sbarazzati Ci siamo sbarazzati Del football Abbiamo deciso così Non fa una piega Come se la responsabilità Fosse una torta Limitata No Che Se Prendi una fetta E la metti in un posto Te ne rimane di meno Per le altre cose Ma che vuol dire Non funziona così Io penso La butto lì Che Chad Si sentisse apprezzato In squadra Penso che Quello potesse essere Un luogo In cui lui Sentiva di valere qualcosa E Una volta che Ruby E Kevin Lo hanno privato Di questo Possono solamente Scatenargli Tanta rabbia Nei loro confronti Addirittura In questo video Ruby e Kevin Dicono Il calcio Era l'unica cosa Che gli desse Un valore Che desse un valore A questo ragazzo Quindi gliel'abbiamo Tolta Ma qual è la logica Poi dice Sempre in questo video Lui Con il football Ci stava manipolando Comportandosi In questo modo Niente Totalmente Non senso Ragazzi Inutile anche Che vi faccio vedere Il video Tra Chad E i suoi genitori Sembra esserci Un muro Invalicabile Più Ruby Tenta di controllarlo Più lui si comporta In modo Ribelle Più lei Ancora una volta Tenta di sopraffarlo Di controllarlo C'è questa scena In cui ci sono Tutti i figli A tavola E Ruby E Kevin Mostrano loro Un sacchetto Un sacco pieno Delle loro cose Tra cui I compiti Che Chad Aveva fatto E che avrebbe Dovuto consegnare A scuola Il giorno dopo A questo punto I genitori Dicono ai ragazzi Abbiamo deciso Di insegnarvi Il valore Del dinaro Quindi Qualunque oggetto Vogliate Da questo sacchetto Dovrete Pagarcelo Oppure Tutti al più Dovrete fare Dei lavoretti In casa Del valore Della cifra Che noi attribuiamo A questo oggetto E al che Ve lo ridaremo Ciò dovrà avvenire Entro la fine Della giornata Perché entro la fine Della giornata Qualunque oggetto Non verrà pagato Verrà gettato Nel cestino Nella spazzatura Chad si arrabbia Terribilmente Per questo Addirittura Piglia Un oggetto Che c'è sopra il tavolo E minaccia Sua madre Di buttarlo per terra E romperlo Perché quei compiti Giustamente Lui li ha fatti Ha già Svolto Un duro lavoro È come se Realizzassi un video Mettendoci Giorni Ore Fatica E qualcuno Me lo rubasse Dicendomi Se vuoi Questo video Che tu hai realizzato Me lo devi pagare Credo che sia furto Questa cosa Cioè semmai è il contrario Tu Se vuoi I miei compiti I compiti che ho fatto io Me li devi pagare Tu non puoi Appropriarti Del frutto Del mio lavoro È pretendere Che ti paghi Per riaverlo indietro Oltretutto Domanda sorge spontanea Ma con quali soldi Dovrebbero pagare Questi Questi ragazzi Cioè loro Se ci pensate Ragazzi Lavorano costantemente Per youtube E non ricevono Un euro Per i loro diritti Di immagine Quindi non solo I loro genitori Li fanno lavorare A gratis Ma hanno anche Il coraggio Di chiedere Loro dei soldi Per le loro stesse cose O per i loro compiti Cioè il frutto Del loro lavoro È una politica Agghiacciante E quasi tutti i figli A un certo punto Cederanno No Cercheranno Di comportarsi bene Di sottostare Alle regole Prepotenti Dei genitori Pur di Non essere puniti Pur di mangiare Ho detto che Quasi tutti Cederanno E si sottometteranno Tranne uno E avrete già capito Chi è Chad è il ribelle Di casa Praticamente Lui è un'anima Indomita Che sembra sfidare Costantemente Le regole di sua madre E sembra Sempre deludere Le sue inarrivabili Aspettative Ma Chad Non sapeva Fino a che punto Sua madre Si sarebbe spinta Per disciplinarlo Immagino Infatti A un certo punto Chad Sparisce dai video 8 passengers Sembra diventare 7 passengers Così Gli utenti Iniziano a fare domande Ruby Kevin Ma si può sapere Dove è Chad? Agosto 2019 Ruby e Kevin Pubblicano Questo video Dal titolo Dove è Chad? Per rispondere Alle pressanti domande Su dove cacchio Sia Chad Il loro figlio Di 14 anni In questo video Pronunciano Le seguenti parole Sedetevi ragazzi Ve lo consiglio Chad oggi è entrato Nel programma di terapia Della natura selvaggia Della fondazione Anasazi Dove trascorrerà Le prossime 8-10 settimane Vivendo nelle montagne Desertiche Dell'arizona E sarà con consulenti E altri giovani Che stanno provando A capire Alcune cose Kevin ragazzi Giustifica Questa sua scelta Di padre responsabile Con queste parole È un accumulo di cose Nel corso di anni Da ben prima Che iniziassimo A usare youtube O molto prima Che entrassimo Nel mondo Dei social media Ed è arrivato il momento Che Chad sviluppi Una maturità E delle abilità Di base Di cui avrà bisogno Quando sarà Adulto Alla fine Ruby e Kevin In questo video Ammettono Che Chad Stesse attraversando Una fase Di depressione E rabbia Ma davvero Chissà se c'entra Il fatto Che non possa Comunicare Con la propria ragazza Senza che I suoi messaggi Vengano letti Dai genitori In un video Da pubblicare Su youtube O che non possa Manco chiudersi In camera Sbattendo la porta Perché non ha la porta E che tutti Lo sappiano Cioè che due milioni E mezzo di persone Lo sappiano Vabbè quindi Praticamente Ruby e Kevin Frankie Notando che Il loro povero figlio Di 14 anni Era depresso E costantemente Arrabbiato Hanno deciso Di fare la cosa Più logica Punirlo Quindi lo hanno Spedito in un campo Di rieducazione Per circa 10 settimane E il bello Ragazzi è che Chad a quanto pare Non lo sapeva Non era a conoscenza Di questa cosa Quindi non ha manco Avuto l'opportunità Di dare il suo consenso Non ha avuto Voce in capitolo Non oso immaginare Come Chad Possa essersi sentito Abbandonato Dalla sua famiglia E' privo E' privo di controllo Sulla propria vita Vabbè se non altro Un campo di rieducazione Non può essere Peggio di casa sua No Cosa sono i campi Di rieducazione I campi di rieducazione Anche detti Love camps Campi dell'amore Sono luoghi Dove gli adolescenti Problematici Tra virgolette Problematici Vengono mandati Dai genitori Nella speranza Che vengano Recuperati Questa è la definizione Ufficiale Ma la definizione Vera Ve la dico io I campi di rieducazione Sono luoghi Dove gli adolescenti Congenitori Problematici Vengono mandati Nella speranza Che tornino Talmente traumatizzati Da sottomettersi Finalmente Al loro controllo Una lobotomia emotiva Praticamente Ma chi sarebbero Questi Trouble teens Gli adolescenti Problematici Vengono definiti Tali I giovani Con problemi Di dipendenza E di salute mentale O Con un orientamento Sessuale Non accettato Dai genitori Sì esatto Ragazzi Ci sono genitori Che mandano Il figlio gay Al campo di rieducazione Affinché glielo Restituiscano etero Come tipo Il cellulare Quando si rompe Lo mandi al centro assistenza Ecco Te lo ripara E se quando te lo ridanno Tuo figlio Ancora ascolta Lady Gaga Puoi restituirlo Entro 30 giorni Te lo riparano Di nuovo gratis Negli Stati Uniti Ce ne sono molti Di questi campi Di rieducazione Che si propongono Di insegnare Ai giovani La disciplina Ma purtroppo Sono frequenti Le segnalazioni Di abusi Di violenze E persino Di morte All'interno Di essi Molte persone Che da giovani Ci sono state dentro Si battono oggi Affinché queste strutture Vengano Chiuse Definitivamente Una tra queste Una tra queste È Paris Hilton La ricca Ereditiera Paris dice Di averne fatto Esperienza In prima persona All'età di 16 anni Quando i suoi genitori L'hanno mandata In un campo Di rieducazione Proprio Nello Utah Uno dei racconti Scioccanti Di Paris Hilton Riguarda Il suo rifiuto Di assumere Delle pillole Cioè a quanto pare Ogni giorno Le davano Delle pillole Che a detta sua La stordivano E quindi lei Si rifiutava Di assumerle Ma secondo la sua versione Ragazzi poi Veniva rinchiusa In una stanza Isolata Nella quale Doveva entrare Nuda Sotto lo sguardo Dei suoi custodi Sempre in base Alla versione Di Paris Hilton Alcuni Dei suoi compagni Venivano Regolarmente Sbattuti Contro il muro Con le mani Serrate Intorno alla gola O subivano Se vizie sessuali Ma Paris Non è l'unica Voce famosa Che si batte Contro questi Campi di rieducazione Lei è La tiktoker Eva Evans Eva in un video Racconta questa cosa Avevo appena Scenato In un ristorante Indiano E praticamente Mentre ero Nel parcheggio Del ristorante Un SUV nero Con i vetri oscurati Mi si è avvicinato E mi ha presa Mi ha perquisita Mi ha caricata E sono finita In un deserto Innevato Per 99 giorni Può sembrarvi Una cosa Irrealistica Ragazzi Però è tutto vero Ed è anche Una cosa Legale Questo rapimento Negli Stati Uniti In quanto È autorizzato Dai genitori Del minore E infatti Se non sbaglio Anche Paris Hilton Racconta Di essere stata Rapita Da due uomini Nel cuore della notte A dirla tutta Ragazzi I genitori Non solo Autorizzano Questo rapimento Notturno Ma cedono Proprio Temporaneamente La tutela Del minore All'istituto Al campo Di rieducazione Quindi è come Se i custodi Dell'istituto Diventassero Temporaneamente I genitori Di tutti Sti ragazzi Minorenni Dopo il video Di Eva Evans Tantissimi ragazzi Americani Si sono fatti avanti E TikTok È stato Inondato Da testimonianze Agghiaccianti Di ragazzi Che nella loro Adolescenza Erano stati Cioè sono stati Internati Nei campi Di rieducazione L'hashtag Della campagna Breaking Code Silence È diventato Virale E i racconti Sono troppo Inquietanti Ad esempio La tiktoker YankeeD Ha pubblicato Le lettere Che scriveva Alla madre Mentre si trovava In un campo Di rieducazione Nello Utah In una di queste lettere Leggiamo Il trasporto Fin qui È stato brutale Non mi hanno permesso Di togliere il trucco Dal viso A casa Ma poi Abbiamo finito Per sederci In aeroporto Per circa Tre ore Al gate Senza nulla Da fare Visto che era Troppo presto Perché i negozi Fossero aperti Non mi hanno nemmeno Dato l'opportunità Di indossare vestiti Normali Solo una felpa E dei pantaloni Della tuta Niente reggiseno O altro Mi hanno mentito Riguardo al programma Dicendomi che durava Quattro settimane Ed era super divertente Quando in realtà È un programma Lungo dodici settimane È divertente Non è la prima parola All'ordine del giorno Ho avuto un terribile Mal di stomaco Per tutto il tempo E nessuno Ha fatto nulla Al riguardo Perché non era Compito l'oro Non c'è acqua corrente Qui Niente bagni Niente vere docce Il cibo è molto pesante Per il mio stomaco E non mi sento mai bene Non ci sono spazzole Per capelli Solo pettini afro Che non funzionano Almeno non per i miei capelli Le docce Qui sono solo Tè che ti versi acqua Addosso nel mezzo Del deserto Non ci danno Deodorante È estremamente Anti igienico Secondo me Sto passando Un brutto periodo Sto cercando di fare La cacca nel bosco Qui fa molto freddo Di notte E mi sveglio nel cuore Della notte Con i piedi intorpiditi Ogni singola notte A volte più di una volta Le altre ragazze Nel mio gruppo Sono state mandate fuori Con l'equipaggiamento Invernale Quindi riescono A sopportare il freddo Ma io sono stata Mandata fuori Con l'equipaggiamento Estivo Perché è quello Che c'è in magazzino Adesso Il personale Ha anche dimenticato Di spedire il nostro Bucato qualche giorno fa Quindi nessuno Aveva dei vestiti Puliti Abbiamo solo due Cambi di vestiti In totale Ho sudato E dormito Negli stessi Pantaloncini E nella stessa Maglietta per nove giorni Poi abbiamo camminato Per più di sette miglia Che sarebbero Circa undici chilometri E quindi ragazzi Ecco come in questo campo Pensano che una giovane ragazza Possa imparare la disciplina Con la mancanza di igiene Come se il puzzo Potesse insegnare L'autocontrollo Come se un ragazzino Che puzza Abbia più probabilità Di diventare Un adulto responsabile Io penso che se così fosse Non metteremmo ai bambini L'acqua di colonia Ma l'essenza Di scarico fognario La verità È che una persona Omosessuale Rimarrà omosessuale Anche dopo tutte Queste umiliazioni E negare la sua identità Con i maltrattamenti Al massimo La indurrà A fare finta Di non essere omosessuale Per soddisfare Le aspettative altrui Ma dentro Saprà la verità E si autodisprezzerà Un adolescente Ribelle Come Chad Per esempio Con problemi di rabbia Come lo descrivono I suoi genitori Continuerà A covare sentimenti Di rabbia E con I maltrattamenti Al campo di rieducazione Imparerà solo A tenerli nascosti Ma alla fine La rabbia Tranquilli Che da qualche parte Uscirà E' imprevedibile Sapere da dove E quando Succederà Ma tra le testimonianze Ragazzi C'è di peggio Cioè Se si entra In questo In questo Buco nero Di testimonianze Si trova Veramente Qualunque cosa E al peggio Non c'è fine Questo ragazzo Racconta su TikTok Di essere stato portato In un campo di rieducazione Sempre nell'Oiuta E Vabbè Vi riporto direttamente Le sue parole Non sapevo Che sarei rimasto Nel mezzo Del deserto Dell'Oiuta Per tre mesi Questa è quindi Una costante Ragazzi Gli adolescenti Non vengono informati Del fatto Che stiano Per essere deportati In un luogo Sperduto In mezzo al nulla Per sei mesi E' una cosa Che succede loro Così A sorpresa Di solito Di notte Quando due individui Loschi Appaiono dal nulla E se li portano Che poi vorrei capire A che serve Questa sceneggiata Del rapimento notturno Secondo me Serve solo Per aggiungere Drammaticità Così Una mossa cinematografica Il che E' molto triste Vabbè Continua Il ragazzo C'erano giorni In cui dovevamo Aspettare Che ci arrivasse L'acqua Eravamo disidratati Assetati E c'erano notti In cui camminavamo Tutta la notte Fino alle 5 del mattino Quindi ragazzi Un'altra costante Sono le lunghe camminate Questa è una cosa Che raccontano Tanti Tanti ragazzi Che sono stati Nei campi di rieducazione Dice infine Il ragazzo A metà del mio soggiorno Ho cominciato a sentire Un forte dolore Nel lato destro Del mio addome Ve la faccio breve Ragazzi Nessuno gli credeva E i medici Lo visitavano In modo approssimativo E poi lo rimandavano Al campo A farsi le passeggiate Perché dicevano Che non avesse niente Addirittura Il terapeuta Gli ripeteva Sai a volte La tua testa Può dirti Che stai soffrendo Quando in realtà Non stai soffrendo Alla fine Era appendicite Ed è stato operato Ma non gli è stato permesso Di vedere i suoi genitori Neanche in ospedale Purtroppo Scappare da questi campi È impossibile In quanto Si trovano Nel deserto O comunque In mezzo Alla natura selvaggia E per chilometri E chilometri C'è solo La desolazione Quindi C'è solo una cosa Che può scappare In questi campi Di rieducazione Il morto Nel 2013 Bruce Steger Età 18 anni Mandato dalla madre Al Tierra Blanca Ranch Rimane Ucciso In un incidente D'auto Proprio Mentre si trovava In questo campo Di rieducazione Questa sarebbe La versione Ufficiale Ma Secondo la denuncia Presentata dalla madre Contro il proprietario Del ranch Che si chiama Scott Chandler Le cose sarebbero Andate diversamente Bruce infatti Sarebbe morto Nel tentativo Di sfuggire A degli abusi E che abusi Sarebbe stato Ammanettato Incatenato a un palo E trasportato Appeso a questo palo Cito testualmente La denuncia Come si porterebbe Un grosso animale Morto Inoltre il proprietario Del ranch Avrebbe versato Succo di peperoncino Negli occhi Di Bruce E gli avrebbe Tirato un calcio In un'altra occasione Lo avrebbe costretto A mangiare Sterco di cavallo Questa ragazzi Di voci Che suona La stessa sinfonia Dell'orrore Riguardo i campi Di rieducazione Quindi ragazzi Ricapitoliamo Il copione Dei campi Di recupero Che sembra Essere pressa Poco lo stesso Per tutte le vittime I ragazzi Vengono rapiti La notte In virtù Dell'accessione Di autorità Genitoriale Di cui abbiamo Parlato prima Vengono trasportati Fino ai campi Di rieducazione In mezzo alla natura O nel deserto In alcuni casi Da legati Piccolo particolare Una volta arrivati Vengono perquisiti E dopodiché Vengono sottoposti A trattamenti Umilianti A punizioni corporali Manipolazioni Della psiche Tipo lo psicologo Che dice Non ti fa Veramente male La pancia E tutto nella tua testa Quindi lavaggio del cervello Mediante gaslighting Periodi di isolamento Fame Freddo Assenza di servizi Igenici E in alcuni casi Violenze sessuali Tutto questo schifo Dovrebbe servire A che cosa? A distruggere un individuo Cosicché dopo Possa essere ricostruito Da capo A proprio piacimento Tipo Frankenstein E quindi Tornando a Chad Frankie Nel 2019 Chad Frankie Viene spedito Dai suoi genitori Rubi e Kevin In un campo di rieducazione Nello specifico All'Anastasi Camp Andiamo a dare un'occhiata Al sito dell'Anastasi Camp Ragazzi Il sito dell'Anastasi Foundation Presenta il loro campo Come un paradiso terrestre Della terapia comportamentale All'aperto Progettato per giovani Problematici Di età compresa Tra i 12 e i 17 anni Quindi ragazzi minorenni Che Affrontano problemi Come depressione Anzia Conflitti familiari Abuso di sostanze O chissà cos'altro E sul sito Vediamo questi Volti sorridenti Vediamo testimonianze Di altri giovani Che grazie al programma Sarebbero diventati Bravi Felici Di successo Avrebbero trovato L'elisir Della giovinezza Eterna Il santo graal È tutto presentato Con un ottimismo estremo Ed effettivamente Bisogna dire Che molte recensioni Da parte dei giovani Che vi hanno partecipato Sono positive E che io sappia Non esistono Storie di Abusi veri e propri Certo Il campo è Sostanzialmente Un cosplay Della cultura Nativa americana Non so se avete presente I nativi americani Quelli che gli europei Hanno sterminato Quando hanno scoperto L'america E hanno deciso Di appropriarsene Ecco Sicuramente Potrebbe Essere Un po' Offensivo Però rispetto Ad altri Campi di Rieducazione Dicono Che sia Uno dei Migliori Infatti Costa Un occhio Della testa Ora non ricordo Esattamente Quanto Me l'ero segnato Ma ho perso L'informazione Comunque Un delirio Ah c'è però Questo Questo utente Che in un commento Su tiktok Ha scritto Sono andato Nello stesso posto In cui è andato Chad Quindi ad Anasasi Se ti comporti male Se fai male Ti aggiungono Due settimane Di tempo Vabbè comunque Di sicuro Non può essere Una vacanza Un campeggio Che dura Due mesi E che mira A rieducarti Tra l'altro Questa cosa Di usare Come arma Di ricatto Il resti qui Più tempo Se non fai Come diciamo noi L'ho sentita Spesso Nelle testimonianze Ad esempio Molti spiegano Che nonostante In questi campi Di rieducazione Subissero Abusi Comunque Quando facevano Le foto Sorridevano sempre Infatti Hanno tutte Queste foto In cui sorridono Tanto Perché Perché Quando era il momento Di fare delle foto I capi Diciamo Dicevano loro Se non sorridi Resti qui più a lungo C'è tuttavia qualcosa Che nel sito Viene omesso Ovvero Che Anasasi Qui sia Almeno a detta Di chi c'è stato Un campo Di rieducazione Mormone Che servirebbe A indottrinare I ragazzi Ai precetti Religiosi Della chiesa Di Gesù Cristo Dei Santi Degli ultimi giorni Questo Non lo dico io Non Cioè Vi dico Quali sono le fonti Le fonti Sono delle opinioni Trovate online Vi leggo Per esempio Quello che scrive Un utente Che dice Di aver lavorato Per la struttura Poi magari Se lo sta inventando Però dice Di aver lavorato Per Anastasi Camp E questo tizio Scrive Questa è un'organizzazione Mormone Cosa di cui Non mi hanno parlato Al momento dell'assunzione Dichiarano di essere Interconfessionali Ma circa Il 98% Dei dipendenti È fedele Mormone Molti ragazzi Problematici Vengono mandati qui Perché hanno avuto Rapporti sessuali Sperimentato Mariana O alcol O perché Sono gay E le loro famiglie Non hanno accettato La loro identità Sessuale In altre parole Molti di questi adolescenti Non erano considerati Problematici Secondo gli standard Americani comuni Ma solo all'interno Della comunità Mormone Quindi Secondo il ragionamento Di questo ex Presunto dipendente Di Anastasi I ragazzi Mandati al campo Anastasi Sarebbero considerati Problematici Solo Secondo I rigidi Criteri morali Della chiesa Di Gesù Cristo Di santi Degli ultimi giorni E non perché Presentano veramente Problemi rilevanti Dal punto di vista Laico Diciamo Sono giovanotti Perfettamente Accettabili Che non stanno Facendo del male A nessuno Ma vengono spediti Ma vengono spediti Al campo Per essere corretti E convinti A vivere Secondo le rigide Regole imposte Dalla religione Ad esempio Ragazzi In un'altra Recensione Di Anastasi Camp Trovata online Queste sarebbero Tipo delle risposte A un utente Che chiede Delle opinioni Su Anastasi Camp Insomma Chi c'è stato C'è un tizio Che si definisce Un grande fan Di Anastasi E questo tizio Scrive che Il direttore E' stato Così Onesto Da rifiutare Il figlio Di una mamma A causa Della sua Lieve Ribellione Alla genitorialità Severa Non aveva Veramente Tutto questo motivo Di essere Mandato al campo Ma perché La mamma Voleva mandare Il figlio Al campo Di rieducazione Perché Ragazzi Aveva Trovato Una lattina Di tè freddo Nella stanza Di suo figlio Adolescente E come abbiamo Detto I santi Degli ultimi Giorni Non possono Bere il tè Pensate Mandare Vostro figlio In un campo Di rieducazione Per insegnare A non bere Il tè Cioè Io mi sento In colpa Tipo quando La mando Dai nonni In qualche modo Questo Anastasi Camp Quindi mi ricorda Un po' I boy scout I boy scout Sono un'organizzazione Cristiana Che fa però Queste avventure In mezzo alla natura Io tra l'altro Da piccola Facevo parte Dei boy scout Ero un lupetto E devo dire Che questa storia Dei campi Di rieducazione Mi ricorda Molto Un'esperienza Fatta con i boy scout L'unica Infatti a parte Gli incontri settimanali In cui ci ritrovavamo A fare Attività varie Di intrattenimento Mi ricordo Soprattutto Di questo Campeggio Perché I boy scout Fanno questi Campeggi Che Vengono chiamati Cacce Durante le cacce I capi scout Si prendono carico Di sta carovana Di bambini Entusiasti Di indossare Full ar colorati E li portano In mezzo alla natura Selvaggia Io ragazzi Come vi dicevo Ho fatto solo una Di queste cacce E poi mai più Non mi aspettavo Che fosse così terribile E adesso capirete Da soli Perché ho deciso Di Cioè ho deciso Non ne ho fatte più Insomma Allora le giornate Erano piene di attività Che in teoria Dovevano insegnarci A sopravvivere In mezzo alla natura Per esempio Imparare A legare Nodi E poi ci facevano Fare altri Nodi Poi Imparavamo Il linguaggio Morse Mentre facevamo Dei nodi Ma alla fine Ciò che facevamo Più di ogni altra cosa A parte i nodi Era camminare Io ricordo Queste lunghe Camminate Ragazzi Penso che mi si stia Sbloccando il trauma Ci hanno fatto camminare Per una giornata intera Dalla mattina Alla sera Ricordo quanto mi facessero male I piedi Perché la strada Era tutta Così A ciotoli Con queste pietre tonde Che a un certo punto Le sentivi tutte Tutte Era tipo Un massaggio doloroso Soprattutto con queste scarpe Da trekking di merda Che ci imponevano Di indossare E che servivano In teoria Queste scarpe A non farti male E invece erano già Le scarpe A farti male Poi la notte Abbiamo dormito In sacchi a pelo Posati su Delle panchine E c'era un freddo Ragazzi Per cui io non riuscivo A dormire Gelavo Cioè immaginate Non dormire per il freddo Come raccontava Quella ragazza di tiktok Cioè se solo Invece di insegnarci A fare nodi Ci avessero insegnato Ad accendere Un cacchio di fuoco La cosa che però Alla fine ha convinto Mia madre A ritirarmi Dai boy scout È stata Che sono Tornata A casa Da questa caccia Verde In faccia Con la scistite Perché Non ho fatto pipì Per tutta la durata Della caccia Ovvero Per un fine settimana Non mi chiedete Come sia Umanamente possibile Però è andata così Perché C'era un solo bagno Con solamente Un batter Stavamo tipo In un capannone Era un capannone In mezzo Alla natura Boh Non so Ancora oggi Non so dove Dove eravamo E quindi dicevo C'era un solo bagno Con questo Water Che era tutto Sporco Ma era sporco In un modo Che non riuscivo A identificare Mi era nuovo Quel tipo di sporcizia In pratica Era pieno Di palle di peli Ho questo ricordo Impresso Nella mia memoria Un gabinetto Pieno di peli Neri Cioè scuri Noi eravamo Lupetti Va bene Però lì ci aveva Palesemente cagato Un lupo mannaro In tutto ciò Non avevo il telefono Perché era vietato Portare il telefono Quindi se anche avessi Voluto chiamare aiuto Non avrei potuto In teoria In pratica Forse mia madre Mi aveva nascosto Un telefono Ora che ci penso Nello zaino Ora ragazzi La differenza Tra i boy scout E i campi di rieducazione È che Io al tempo Ho scelto Di iscrivermi Ai boy scout Ce l'ho voluto fare Io Una cosa che ho chiesto io E l'ho chiesta Anche in modo insistente Invece Ai campi di rieducazione I bambini Per lo più Ci vengono mandati Dai genitori Forzatamente In alcuni casi Non ne sanno niente Fino a quando Non vengono rapiti Nel cuore della notte E portati in mezzo Alla natura Ecco se io mi fossi ritrovata In quella caccia All'improvviso Senza che l'avessi scelto io Per punizione Perché mia madre Mi riteneva Monella Io non oso immaginare Come mi sarei sentita Abbandonata E triste Peraltro Ripeto ragazzi La durata di una caccia Era un fine settimana Cioè due giorni E una notte Non certo Dieci settimane Io ho passato Una notte In quelle condizioni E già il giorno dopo Stavo più attenta Quando i capi scout Spiegavano come si fa Il cappio Ragazzi Io avevo Otto nove anni E oggi L'unico nodo Che mi ricordo È il cappio Per quanto stavo attenta Quando metto la cravatta Sbaglio sempre In ogni caso I boy scout Erano un'organizzazione Religiosa Erano un'organizzazione Cristiana C'era questo legame Con la chiesa Ma era un legame Dichiarato Gli incontri avvenivano In uno scantinato Della chiesa Per dire Quindi lo si sapeva Che fosse Un'organizzazione cristiana Anastasi camp Invece Lo O me Cioè se queste cose Sono vere Queste cose che si leggono online Se è vero Che Anastasi camp Sia un campo Mormone Quindi di stampo Religioso Comunque questa informazione Viene omessa Dal sito Non viene dichiarata Eppure Anastasi camp Pare essere proprio Un'esperienza Di indottrinamento In base ad alcune opinioni Che si trovano online Tipo questa Distruggono i ragazzi Credo che Intenda Psicologicamente Ma anche fisicamente Distruggono i ragazzi E poi li circondano Con credenze Mormoni E credenze Omofobe Monitorano tutti i contatti Con i genitori Rendendo impossibile Renderli consapevoli Delle circostanze Questo ragazzi È un punto interessante Su cui Non mi sono soffermata E ho fatto male Perché in realtà È importante Parlarne Sembra che ci sia Un altro lato oscuro Dietro i campi Di rieducazione Dietro alcuni Campi di rieducazione In particolare Ho trovato Su tiktok Una ragazza Che raccontava Di come sua madre Fosse stata adescata E manipolata Da una di queste Organizzazioni E convinta Che mandare Sua figlia Al campo di rieducazione Avrebbe risolto Tutti i suoi problemi Della serie Tu ci paghi E noi te la riportiamo Come nuova Felice più che mai Quindi Questo che cosa significa Che in alcuni casi I genitori Sono loro stessi Vittime di questi Campi di rieducazione Che promettono Soluzioni facili Per i problemi Complessi Dei loro figli E che promettono Di trattarli bene Soprattutto E magari le famiglie Non se l'aspettano Che andranno a vivere In condizioni disumane Ma torniamo a Chad Dopo due mesi Di assoluto silenzio Stampa sul suo Soggiorno al campo Un bel giorno Ruby e Kevin e Frankie Decidono che È ora di andarlo a prendere Il momento in cui Chad Li vede E si precipita In contro a loro È straziante È naturalmente Ripreso da un team Di cameraman Professionisti Che ve lo dico a fare E così Ancora una volta Un momento Che sarebbe dovuto Rimanere privato Viene dato In passo A milioni Di utenti Neanche il tempo Di tornare a casa Che mamma Che mamma Ruby Schiafferà la telecamera In faccia a Chad E gli farà L'interrogatorio Su Anasazi No ragazzi Purtroppo Non gli chiederà Se abbiano rispettato I suoi diritti umani Fondamentali Anzi Gli farà domande Assolutamente Insulse Vi faccio vedere Questo video Qualche estratto Di questo video Quindi attenzione Ragazzi alla domanda Perché ti abbiamo Mandato al campo Chad risponde Perché ero un ragazzaccio Ero un ragazzo cattivo Dopodichè Ruby fa a Chad Domande manipolatorie Per esempio Gli chiede Ti è piaciuto Sin da subito Stare lì O ci hai messo Un po' Ad abituarti Ruby Ma tu sei proprio sicura Che gli sia piaciuto Mentre risponde Alle domande Chad A questo punto Tiene gli occhi bassi Ed evita di guardare In camera Il disagio La tristezza Non è sufficiente Essere stato deportato Per due mesi e mezzo In un campo di rieducazione Contro la propria volontà Perché Troppo cattivo Per meritare L'educazione Dei propri genitori No Non basta questo Chad Deve anche subire L'umiliazione Di dovere dichiarare Davanti a milioni di persone Che l'esperienza Gli è piaciuta E non solo ragazzi Perché se ci fate caso Chad All'inizio Era preso bene Cambia umore Nel momento In cui sua madre Inizia a fargli La morale Quando lui scherzando Dice Era un ragazzaccio Era un ragazzo cattivo Ecco sua madre Si mette a dirgli No Non eri un ragazzo cattivo I figli sono doni di Dio Le scelte che fate Sono cattive Bla 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 Quindi lui la voleva Buttare un po' in cacciara Voleva Vivere un momento leggero Possibilmente Perché Stanco Dell'esperienza Ma no Deve ricevere Una morale Dalla madre Peraltro Di fronte A due milioni e mezzo Di iscritti al canale Che poi io dico Ma veramente Ma no Ma se proprio Gli devi fare Questi discorsi pesanti Ma no Glieli puoi fare In privato Non lo vedi Che lo metti In imbarazzo Ragazzi Immaginate Se tutte le ramanzine Che vi hanno fatto I vostri genitori Fossero state messe online Mentre eravate adolescenti Che vergogna C'è comunque un momento In cui un po' ti senti mortificato No È una mortificazione Però molto Dimensionata Perché È un momento privato Tra te e il genitore No Amplificate Questa sensazione Di mortificazione All'ennesima potenza Tra l'altro Questa cosa Di condividere I video In cui fa Le ramanzine Ai figli Mettendoli in imbarazzo È molto 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 Frequente Nel canale Nel suo canale Hate Passengers Ad esempio Questo è un video In cui Ruby Si commuove Per il fatto Che suo figlio Chad Si sia diplomato Il figlio Al che Cerca di riderci Sopra Scherza un po' Sul fatto che Ruby Si stia commuovendo Insomma Ancora una volta Cerca di Buttarla in cacciara E mantenere L'atmosfera Leggera Ma Ruby Interrompe Il momento Di gioia Dicendogli Chad Tu devi prendere Sul serio I tuoi voti Niente Chad Si prende di nuovo Male All'improvviso Mortificato Davanti a due milioni E mezzo Di persone In un momento Che per lui Era gioioso Perché si era Finalmente diplomato Ci sono persone Divenute super cattive Per molto meno Poi vabbè Ci sono anche Momenti in cui Ruby Vanta i propri figli Ma secondo me In qualche modo Riesce a metterli In imbarazzo Lo stesso Tipo in questo video In cui Ruby Prende il telefono Di Chad E già Non ci siamo E mostra Lo sfondo Agli spettatori Lo sfondo Di Chad È Gesù E Ruby È felice Per questo Cioè lo flexa Flexa lo sfondo Di suo figlio E si commuove Cioè immaginate Un vostro genitore Che senza manco Chiedervi il permesso Piglia il vostro telefono E mostra lo sfondo A due milioni e mezzo Di persone No ma io Non ce la potrei fare Ma torniamo all'interrogatorio Di Ruby A suo figlio Chad A questo punto Ruby chiede a Chad Se intende rifare Le stesse cose Che l'hanno portato A questo viaggio Lei lo chiama Viaggio L'esperienza Ad Anastasi Camp Chad Ragazzi al che Confessa Di stare avendo Una ricaduta E come previsto Non passerà Molto tempo Prima che Ruby Francky Lo punirà Di nuovo Gennaio 2020 Ruby Kevin E i loro otto figli Si trasferiscono In una nuova casa A Springville Nel maggio 2020 Ruby pubblica Questo video Girato insieme Ai suoi figli Chad E Abby Ricordiamo Che Chad Ha a questo punto Circa 15 anni Mentre Abby Dovrebbe averne Circa 13 Nel video Ruby parla Delle punizioni Ovvero Il metodo preferito Con cui educa I suoi figli I suoi figli E spiega Che secondo lei La punizione Non deve terminare Quando uno dei figli Dimostra un miglioramento No Bisogna che la punizione Sia costante Per almeno 6 mesi Ed è a questo punto Che Chad Si lascia sfuggire Qualcosa di raccapricciante Inizialmente Contesta Questa cosa Del minimo Di 6 mesi Perché dice Boh Questa mi mancava Non la sapevo Non la conoscevo Questa regola Al che però Ruby Gli risponde Ah si Riflettici Ti ho mai restituito Qualcosa in meno Di 6 mesi Chad Ragazzi Ci pensa Ci riflette Un attimo E dice Vero In effetti La mia camera da letto Mi è stata portata via Da più di 6 mesi Ruby Al che Scoppia a ridere E dice Non credo Che i nostri Telespettatori Sappiano Che stai dormendo Su un puff In che senso Ce lo spiega Direttamente Chad In che senso Contesto Nella vecchia casa Chad E il fratello Più piccolo Russell Condividevano La camera Perfetto Una notte Chad Aveva deciso Di fargli uno scherzo Ragazzi Chad dice Praticamente Una volta Ho svegliato Mio fratello Russell Alle 2 di notte E io ho detto Oh Russell Svegliati Svegliati Mamma mi ha detto Che domani mattina Andiamo a Disneyland Sbrigati Fai la valigia Al che Russell Si era alzato Aveva Riordinato La sua camera Aveva rifatto Il letto E aveva fatto La valigia Però Non era vera Questa cosa Poi vabbè A parte questo Pare che Chad Sempre nello stesso periodo Avesse puntato Contro Russell Una pistola Giocattolo Tutto ciò Tutto questo comportamento Di Chad Aveva irritato Mamma Ruby La quale Aveva buttato fuori Chad Dalla stanzetta Di Russell Dicendogli Tu Chad Non sei Assolutamente In grado Di condividere La camera Con tuo fratello Quindi questa camera Basta Non è più tua Vai a dormire In soggiorno Ebbene ragazzi Dice Ruby Voi non lo sapevate Cari telespettatori Ma Chad In quel periodo Dormiva Sul pavimento Del soggiorno Si sono poi Trasferiti Nella casa nuova Dopo qualche mese E nella casa nuova A Chad Non è stato Dato Neanche Un letto Gli è stato Dato Per dormire Solamente Un puff Una poltrona A sacco Da quello che Deduco Quindi la sua stanza Si presentava Al momento in cui Registravano Questo video Più o meno Così Chad Quindi ragazzi Ha da prima Dormito Per diversi mesi Sul pavimento Del soggiorno E poi Su una poltrona A sacco Il tutto Per un totale Di sette mesi E due settimane La cosa più inquietante È che mentre Chad Racconta Questa storia Ruby Sorride Compiaciuta Quasi gongolando Per la sua genialità Malvagia Qualcuno dice Probabilmente Rideva Per nervosismo Perché stava venendo fuori Una cosa Che lei non voleva Che venisse fuori Ma lei Poteva benissimo Tagliare In post produzione Queste scene E invece Non lo ha fatto Ha deciso di condividere Questa parte Della sua vita Con gli iscritti Al canale E questo mi fa pensare Che lei stia ridendo Perché gongola Ragazzi Perché si Perché lei si sente Una specie di genio Del male Un genio creativo Delle punizioni Ma Ruby Ragazzi Anche dopo che è venuta fuori Questa cosa Aghiacciante Non ha mica finito Di dimostrarci Che le sue punizioni Durino più di sei mesi No ragazzi Infatti a questo punto Inquadra sua figlia Abby E dice A lei Invece Ho sequestrato Il telefono Molti mesi fa E le chiede E Abby Le risponde Con quest'aria Così Rassegnata Alla vita Ma purtroppo Non finisce qui Ve lo ricordate Che all'inizio Vi dicevo Questi bambini Non possono avere amici Perché Ruby Non vuole E' proprio in questo video Che la cosa viene fuori Infatti Ruby A un certo punto Chiede ai suoi figli Voi potete giocare Con i vostri amici E lascia che loro Spieghino Alla telecamera Che no Non possono avere amici Praticamente Non ne hanno Perché comunque Sarebbe impossibile Gestire le relazioni Sotto le rigide regole Imposte dalla madre Sentite Ruby Frankie Reagisce Con Assoluta Indifferenza Alla situazione Come se fosse Del tutto Normale Che i figli I suoi figli Non abbiano amici Io penso Che sentire il proprio figlio Dire non ho amici Spetterebbe il cuore Di qualunque genitore Ma lei li isola Volontariamente E perché lo fa Se ascoltiamo Attentamente Le parole di Chad Sentiamo che lui dice Ho letteralmente Detto ai miei amici Che non esco più con loro Perché dicono cose Un po' incasinate Quindi ragazzi Cosa possiamo dedurre Da questa frase Che magari I suoi amici Parlano Di cose Di cui tipicamente Parlano gli adolescenti Come La musica La feed Tutto ciò Non è andato a genio A mamma Ruby La quale Ha vietato A Chad Di frequentare I suoi amici Problema risolto Sotto la clip Di questo video Che circola su TikTok Ho trovato anche Questo commento Non so quanto sia attendibile Ma ve lo leggo Lo stesso Perché un certo John White Scrive Ho vissuto dall'altra parte Della strada Per 12 anni Ai miei figli Non era permesso Giocare con loro A nessuno era permesso Ripeto Non so quanto sia attendibile Questo specifico commento Però Questa dei vicini di casa È una cosa Che risulterà Vera Ho trovato inoltre Questa clip Molto molto significativa Contesto Ragazzi Mentre Chad era Nella sua stanza La finestra Si era rotta Allagando Tutto il seminterrato Perché c'era Dell'acqua Fuori da queste finestre Non credo Di aver capito In realtà Scusate Comunque innanzitutto Questa è la stanza Di Chad Cioè cominciamo Dall'osservare Questa cosa Chad non dorme Più in un puff Ma comunque A quanto pare Non dorme manco In una suite Neanche in carcere Si dorme In queste condizioni Di degrado Infatti Fossi In questi ragazzi Io penso Che a una certa Avrei commesso Un qualche reato Minore Mi sarei assicurato Quanto meno Dei passi E un letto In cui Posare Le membre Vabbè Comunque Non finisce qui Perché Praticamente Come vi stavo Dicendo La finestra Della stanza Di Chad Insomma Del tugurietto Di Chad Si era rotta Allagando il seminterrato E lui aveva reagito Con molta Serenità E si era andato A fare la doccia In questa clip Vediamo Ruby Che si avvicina A Chad E gli dice Ma scusa Il vetro si rompe E tu Hai voglia Di farti la doccia E mangiare Perché è messo Davanti il frigorifero Che cerca Cosa mangiare Chad Le risponde Sto uscendo Con i miei amici E al che Ragazzi Ruby Scoppia a piangere E se ne va Sembra quindi Un tentativo Di farlo sentire In colpa Per il fatto Che stia Uscendo Con i suoi amici Quando lei E' tanto turbata Perché si è rotto Il vetro Della stanza Di suo figlio Della stanza Di suo figlio Come abbiamo visto Tante volte L'isolamento E' la regina Delle red flag Quasi sempre E' il primo Campanello Di allarme Che ci avverte Di essere di fronte A una persona Pericolosa I manipolatori Isolano le loro vittime Per esercitare Un maggiore controllo Su di loro Perché Quando la vittima E' privata Della possibilità Di confrontarsi Con altre realtà E con altri punti Di vista Il manipolatore Può convincerla Molto più facilmente Che il suo comportamento Il comportamento Del manipolatore Sia normale Così La vittima Non cercherà Aiuto E non cercherà Di allontanarsi Dalla situazione Perché ai suoi occhi Sarà tutto normale Non c'è alcun pericolo Quella è Proprio la normalità Inoltre Quando la vittima Non ha Un supporto esterno Non ha Una spalla Su cui piangere Il manipolatore Diventa Il suo unico Punto di riferimento E questo La rende Sempre più dipendente Da lui Non lo vuole perdere Perché E' l'unica persona Che ha E questa E' la dinamica Che si inizia Già A intravedere Nella famiglia Frenchi Ruby Frenchi Considera I rapporti sociali Dei suoi figli Come un'intrusione Nella loro vita Che grazie a lei È tanto controllata I suoi figli Sono disciplinati Grazie a lei E quindi Lei Li vuole Isolare Da influenze Esterne Così che Nessuno Possa corrompere Il suo duro lavoro Con Degli Influssi Maligni Lei e il padre Devono essere L'unica influenza Nella vita Di questi ragazzi Influenza nel senso Di virus Proprio in questo caso Ruby in altre parole Non vuole correre Il rischio Che i figli Sviluppino Opinioni E comportamenti Non instillati Direttamente Da lei Dal canto Loro I figli Che non hanno Molte occasioni Di confronto Con i loro Coetanei Reputano normale Il modello educativo Dei loro genitori Non si ribellano Ma torniamo a questo video Perché come potete Immaginare Nel momento In cui Sul canale Hate Passengers Ruby pubblica Questo video Scioccante Scoppia il casino Cioè si solleva Una bufera Contro di lei Il fatto che abbia privato Il figlio di un letto Per sette mesi Sconcerta un pochettino Gli utenti E a questa ondata Di polemiche Ruby risponderà Con un video Vlog Con il quale Non farà altro Ragazzi Che peggiorare La situazione Ed è qui Che io collocherei L'inizio Della fine Di Hate Passengers Ruby Frankie In questo video Dice Ok parliamone Parliamone Io mi rendo conto Che qualcuno di voi Potrebbe non condividere I miei metodi Educativi Lo capisco Che qualcuno Si sia sentito Arrabbiato Perché ho tolto Il letto A mio figlio Per sette mesi Lo capisco Perché lo so Che in giro Ci sono tanti Bambini I cui genitori Sono negligenti Ah Quindi non è lei A essere abusanti A essere abusanti Nei confronti Dei figli No sono i genitori Degli altri A essere troppo pigri Per punire I loro Ed educarli bene Questa è una Una bella tattica Manipolatoria Si cerca Di deviare L'attenzione Dalle proprie azioni Estreme Verso l'altro Attribuendo a lui Delle colpe Per esempio Io sono maleducata Perché arrivo Sempre in ritardo No siete voi Che prendete troppo Sul serio Gli orari Perché siete persone Noiose Vecchie Oppure Mi stai dicendo Che io dimentico Sempre di restituirti I soldi Certo che sei veramente Una persona avara E attaccata al denaro Questa è una cosa Che in Sicilia Si chiama Prendere avanti Certo che ci vuole Coraggio ad accusare Altri genitori Di negligenza Quando tu Quella volta In cui dovevi Portare tua figlia Sciari al pronto soccorso Perché Non ci vedeva La sua vista Peggiorava minuto dopo minuto Non si capiva Che cacchio le stesse succedendo Ti sei messa a fare La lavanderia A pulire il bagno A ripulire di nuovo il bagno Hai fatto il vlog In cui dicevi Ho pulito tante volte Perché sto temporeggiando Adesso mi sono anche messa In lucida labbra È passata un'ora Da quando avrei dovuto Portarla al pronto soccorso Sì ragazzi Quello che vi sto raccontando È successo Veramente Roba che se Sciari Avesse avuto Qualcosa di grave La condotta Di Rubi Frenchi Si sarebbe potuta Considerare Omissione di soccorso È veramente Incomprensibile Il comportamento Di Rubi Frenchi Di fronte a Un'emergenza Sanitaria Della figlia Ci sono situazioni In cui L'intervento Tempestivo Può salvare La vita È che io sappia I dottori Dell'ospedale Prendono in cura Tua figlia Anche se ti presenti Senza il lucida labbra E anche se prima Non hai pulito il bagno Ma l'importante È che Non ci sentiamo Genitori negligenti Perché Puniamo Nostro figlio Togliendogli Il letto E costringendolo A dormire Per terra Poi se ha sintomi Che potrebbero indicare Morte imminente E invece di portarlo In ospedale Puliamo il gabicesso Va bene Non contenta Rubi sostiene Che togliere il letto A suo figlio Chad Per punizione Sia stata un'idea Geniale Perché Sapete perché Ragazzi Perché Dice Rubi La prima cosa Che hanno fatto Ad Anastasi Camp Quando Chad È arrivato È stata togliergli Il letto Vi riporto le parole Esatte di Rubi Loro lì non hanno letti Per questo Chad ha dormito Su un terreno Roccioso Per mesi Non oso immaginare Come stia la schiena Di Chad Ha dormito Per due mesi e mezzo Su un terreno Roccioso Quattro mesi Sul pavimento Tre mesi Su una poltrona A sacco Cioè avrà la colonna Vertebrale biforcuta A questo punto Ma poi il fatto Che abbiano fatto Dormire suo figlio Sulle rocce Per due mesi Non la turba Ci sta È Montessoriano E infatti Rubi prosegue Dicendo che Anastasi Camp È gestito Da psicologi Terapeuti E se non avere Un letto Fosse psicologicamente Dannoso Loro non lo avrebbero Suggerito Ma forse lo psicologo Non lo ritiene Dannoso Ma l'ortopedico Sì E comunque Gli psicologi del campo Secondo me Non sono del mestiere Cioè comunque Dovranno attenersi Al programma Dell'organizzazione Per cui lavorano Non è che Gli possono dire Dovete comprare Le brandine Dovete comprare I letti a castello Ma comunque Dormire per terra È psicologicamente Dannoso Non vedo come Si possa mettere In dubbio Perché la qualità Del sonno È cruciale Per la salute mentale E dormire sul pavimento Roccioso Secondo me La compromette Perché sei A disagio Sei scomodo Fa freddo Ti fai male Ci sono gli insetti Tutto questo Si traduce inevitabilmente In scarsa qualità Del sonno Che si traduce In stress Che si traduce In umore negativo Perché il cervello Ha fisicamente Bisogno di recupero Dopo lo stress Quotidiano Ma tolto questo Ragazzi Chad è stato Costretto Dai genitori A dormire per terra Per punizione E questa è una forma Di umiliazione Perché vieni degradato A livello di animale Domestico Ma neanche Pure i cani Dormono nella cuccia Carlo Non ha Non vuole starci Sul pavimento Si siede Dovunque Trovi qualcosa Di diverso Dal pavimento Se c'è uno zaino Per terra Si mette sopra lo zaino Se c'è Non lo so Un sacchetto Si siede sopra il sacchetto Se c'è uno scontrino Ve lo giuro Si siede sopra lo scontrino Per dire Non siamo più abituati A vivere come l'uomo Di Neandertal Siamo abituati Al comfort E questo ormai È diventato Una necessità Perché non siamo più Fisicamente Predisposti A dormire per terra E quando un'autorità Ti priva Del letto Come forma di punizione Nel senso che tu sai No che ci sarebbe L'alternativa Potresti dormire Nel letto Ma l'autorità Non te lo fa fare Per punizione Quello che vai a provare Possibilmente Va oltre Il disagio fisico È una violazione Della tua dignità E del tuo essere umano Ora L'umiliazione Più Lo stress Causato dalla scarsa qualità Del sonno In un ragazzo Di 15 anni Che non è in grado Magari Di spiegarsi Il mondo intorno a sé E di comprendere Che il problema Non sia Tanto lui Ma sua madre Che è completamente Esaurita Può comportare Danni psicologici Significativi Perché il ragazzino Potrebbe sentirsi Come se non valesse Niente Come se i suoi stessi genitori Non importasse Del suo benessere E immaginate anche Di vivere Una giornata Con la consapevolezza Che la sera Non potrete Mettervi comodi Al calduccio A dormire Questo è un altro Livello di tortura Questo video Di Ruby Frankie Con la sua reazione Insensibile Di fronte alle polemiche Sul modo in cui Ha trattato il figlio Chad Fa sì che il pubblico Si chieda Ma non è che Questa Ruby Frankie Niente niente È priva di empatia Nei confronti Dei figli E pensa che I maltrattamenti Sui minori Siano punizioni E quindi Si inizia A indagare E i video Di hate passengers Iniziano a essere Guardati dagli spettatori Con occhi diversi Per cominciare Si nota L'uso cinico Che Ruby Fa dei suoi figli Per ottenere Più visualizzazioni Adesso vi farò Degli esempi E di nuovo Ragazzi Vi invito a immaginare Che vostra madre Avesse fatto questo A voi E che questi Vostri contenuti Intimi Fossero stati messi Online Quando eravate Appena adolescenti Ok In questo video Ruby inquadra Una delle sue figlie Una delle sue figlie E dice al pubblico E' da tutta l'estate Che lei mi chiede Di potersi depilare Gambe e ascelle Pensate ai compagni Di scuola Di questa ragazzina Che guardano il video In quest'altro video Ruby dice Inquadrando di spalle Una delle sue figlie Ah Julie non vuole Farsi vedere da voi Perché ha il viso ferito Julie ti va di raccontare Cos'è successo Julie al che Le risponde di no Non lo vuole raccontare Preferisce tenerlo per sé Quello che è successo Ma ops Mamma Ruby Dice alla camera E purtroppo mi sa Che l'ho già raccontato Questo invece E' un video In cui Ruby Frankie Incita sua figlia Eve A baciare Ripetutamente Sulla bocca Il cuginetto Alludendo a una Tensione romantica Tra loro E quindi Adultizzandoli Altra clip Questa è Abby Ripresa dalla madre Durante una visita medica Mentre si pesa Mamma Ruby Non perde l'occasione Di inquadrare Da vicino Il peso Di sua figlia Un'informazione Un po' Intima Da condividere Con due milioni E mezzo di persone Secondo me Vabbè Vi cito A questo punto Alcuni titoli Dei video Caricati sul canale 8 passengers Da Ruby Si tratta Di video In cui Ruby Conversa Con uno o più Dei suoi bambini Ufficialmente Entrato nella pubertà Ufficialmente Iniziata la pubertà Altro video Discorso imbarazzante Sulla pubertà Per ragazze Cicli mestruali Prima volta Che si rade Non dimentichiamo Ragazzi Al costo Di essere ripetitivi Che i compagni Di scuola Di questi ragazzi Hanno accesso Facile su youtube A tutto questo Materiale Immaginate Il festino Che possono fare I bulli Con un video Intitolato La prima volta Che si rade Personalmente Non ho mai subito Bullismo A scuola Per fortuna Ma Conoscendo i miei compagni Delle medie Penso che sarei stata Meno fortunata Se ci fosse stato Online Un video Del genere L'unica speranza Qua è che i bulli Commossi dalla situazione Decidano di risparmiare Questi ragazzi Pensando Vabbè dai Non serve Che infieriamo Anche noi In vari video Infatti La stessa rubi Sembra bullizzare I propri figli Davanti alla sua Amata telecamera C'è un vlog Per esempio In cui rubi Riprende Un momento Delicato In cui Uno dei suoi figli Esprime La paura Che Lei E suo marito E quindi Il padre del bambino Possano divorziare Un giorno E quindi ragazzi Suo figlio Si sta prendo con lei E' una questione Che dovrebbe restare Privata Ma come ormai sappiamo Rubi Non è molto interessata A proteggere la privacy Dei propri figli Quindi Bam Sul canale youtube Ancora più sconcertante Però è il modo In cui rubi Affronta la situazione Cioè Invece di Rassicurare Il bambino Dicendogli Ma no Non ti preoccupare Non Io e papà Magari a volte litighiamo Però Alla fine Facciamo pace Rubi lo mette in imbarazzo E infatti gli chiede Ma perché Hai sentito me Papà urlare Litigare E quando il bambino Le risponde di sì Rubi Si mette a ridere Ride proprio Grasse risate E non contenta Gli dice Avresti dovuto rispondere Di no Questi episodi In cui Rubi Si mostra Insensibile Di fronte ai sentimenti Dei figli Sono frequenti E Quando questo Atteggiamento Le viene Rimproverato Nei commenti Lei Replica Così Io Genitore Non sono responsabile Di come mia figlia Si sente Se mia figlia Si sente triste È una sua emozione E non è compito mio Farla sentire meglio Ma in base a quale legge Perché mi risulta Che legalmente I genitori Abbiano l'obbligo Di fornire Assistenza ai figli Compresa L'assistenza emotiva Se un genitore Trascura le necessità Del proprio figlio Ripetutamente In modo protratto Nel tempo Penso che si possa Persino incorrere Nell'accusa Di maltrattamento Non è compito mio Cosa Sei sua madre Se non è compito tuo Di chi è compito Del tuo vicino Di casa In tutto ciò Ruby Frank Non solo Si comporta In modo Discutibile Ma sta anche Parlando A due milioni E mezzo Di iscritti Al canale Questo significa Che lei potenzialmente Può influenzare Il comportamento Di due milioni E mezzo Di persone Tra cui non so quanti genitori E usa questo potere Per insegnare cosa Per insegnare Se vostro figlio è triste Sbattetevi nel cazzo Non sono affari vostri Ma Ma Ragazzi Attenzione E' affare vostro Lo sfondo che mette sul telefono Ma cosa ne penserà Papa Kevin Del metodo educativo Di sua moglie Lo condividerà Oppure No Kevin ragazzi Risponde anche lui Alle critiche Comparendo In questo stesso vlog Di sua moglie Quello in cui Ruby Diceva Esistono tanti genitori Negligenti E anche Kevin Fa il suo bel discorso Che io adesso Vi riporto Attenzione Molto tempo prima Di avviare YouTube Ci sono state Molte sfide Comportamentali Ed emotive Che abbiamo dovuto Affrontare Con i nostri figli E ci siamo consultati Con professionisti Della salute mentale Ed emotiva Per anni Fate attenzione Ragazzi E le cose Che mostriamo E condividiamo E le cose Che molti di voi Criticano E definiscono Abusanti Sono in realtà Cose Che i professionisti Della salute mentale Ci hanno consigliato Scoppia lo scandalo Il 31 maggio 2020 Su Cengiorg Compare questa petizione Che chiede un'indagine Sugli hate passengers Il testo della petizione Contiene dei dettagli Su quello che gli spettatori Avrebbero visto Sul canale di hate passengers Nel corso degli anni Materiale che oggi È andato per lo più perduto Perché il canale Ragazzi Non c'è più È stato chiuso Quindi questo testo Ci è prezioso E noi andiamo a leggere Qualche passaggio Anzi ve lo riassumo io Secondo questa petizione Ruby Frankie Un giorno Avrebbe portato La piccola Eve Che all'epoca Aveva tre anni Al supermercato Nuda Con solamente Un pannolino addosso Praticamente sarà diventata Lei stessa Un surgelatino Poi Ruby avrebbe detto In un altro video Che Lei non permette Ai suoi figli Di comprare Più di Due tre pantaloni Più di due tre magliette Più di due tre Capi di abbigliamento Per tipologia Perché fa parte Delle sue regole Limitare i capi Di abbigliamento E fino a qui Ci sta Cioè lei Magari li educa A non fare sprechi No? Se non che In un video successivo Ruby avrebbe poi Mostrato ai suoi spettatori Tre scatole Di vestiti suoi Inutilizzati Dicendo Sto combattendo Una battaglia Per smettere Di comprarmi vestiti Perché lo faccio Come antistress Quindi Riporta La petizione Lei non compra Vestiti Dei suoi figli Con i soldi Che ottiene Dalla loro presenza Davanti alla telecamera Ma poi Può comprare Migliaia di vestiti Con quei soldi E non indossarli Capite che stiamo Parlando Di sfruttamento Del lavoro minorile Perché lei Guadagna molti soldi Facendo lavorare I figli Per youtube Sfruttando La loro Immagine Ma loro Non guadagnano Nulla E non hanno Alcun potere Sul denaro Che loro Producono La petizione Raccoglie Circa 18.000 Firme Il 25 giugno 2020 Kevin Annuncia Attraverso i giornali Che gli assistenti sociali Abbiano fatto irruzione In casa loro Senza alcun preavviso Secondo lui Gli assistenti sociali Avrebbero controllato I bambini Uno per uno Alla ricerca Di chissà che cosa Solo per concludere Che tutto fosse A posto E andarsene via In imbarazzo Perché Era tutto Molto tranquillo Cioè Ruby Stava facendo Il pane Con la piccola Eve Mentre risolvevano Un puzzle Quindi Un tranquillissimo Ambiente domestico Insomma Una visita Che si sarebbe Rivelata Più imbarazzante Per gli assistenti sociali Che per la famiglia Franchi Ruby Franchi Dal canto suo Dichiara Ai giornali Ciò che la gente Non capisce E che diamo Ai nostri figli La possibilità Di scegliere In tutto Infatti Chad aveva scelto Di andare ad Anasasi camp Vero? Ah no Neanche lo sapevo Vabbè Chad aveva scelto Di dormire per sette mesi A terra O su una poltrona A sacco Vero? Ah no Hanno tutti quanti Scelto di non avere Amici Vero? Ah no L'unica cosa che scelgono Questi ragazzi È sopravvivere Perché se si ribellassero Alla madre Soccomberebbero Alle sue punizioni A questo punto Migliaia di utenti Si disiscrivono Dal canale Hate Passengers Le visualizzazioni Diminuiscono Drammaticamente Gli sponsor Prendono le distanze E il caricamento Di nuovi video Diventa irregolare Su TikTok Circolano in modo virale Clip tratte dai video Di Hate Passengers In cui Ruby Si comporta In modo abusante Con i figli La maggior parte Di queste clip Le abbiamo già esaminate Ed è a questo punto Che i figli Condividono un post Su Instagram Sulla pagina Hate Passengers Post con cui Difendono i genitori Scrivono infatti I figli A tutti i TikToker In particolare Alle ragazze Di 13 anni E a un uomo Sui 40 anni Che ci vuole adottare No grazie Ragazzo inquietante Che non hanno idea Di chi siamo Eppure fanno Queste affermazioni Fatevi una vita A tutti i nostri fan Devoti Che sono veramente Preoccupati Vi ringraziamo Per il vostro supporto Ma questo è ridicolo Un video di 30 secondi Estrapolato Da un video Di 20 minuti Estrapolato A sua volta Da un singolo giorno Non è una prova Di abuso Non avete idea Di cosa sia il vero abuso E' incredibile Il cambiamento Che poche persone Possono fare nel mondo Ed è per questo Che vi chiediamo Di trovare Una vera Persona O situazione Che ha bisogno Di questo aiuto E dedicare Il vostro tempo E la vostra energia Ad aiutarli Aggiungeremo La nostra voce Alla vostra Se ciò Accadrà In sostanza Ragazzi I figli Dicono Preoccupatevi Delle vere vittime Di abusi Quelle che veramente Necessitano Di aiuto Non di noi Sotto questo post Papa Kevin Commenta Quelli sono i miei bambini Evviva Sono così orgoglioso Dei miei figli Per essersi opposti Alla massa E avere affrontato Con coraggio Ed eleganza Tutto questo Nonsense Però non biasimo Il ragazzo inquietante Che vuole adottare I miei figli Chi non vorrebbe avere I miei figli A casa loro Sono certamente Una benedizione Per la mia casa Nonostante i tentativi Di soffocare Lo scandalo Sarà lo scandalo A soffocare Ruby e Kevin Nel Natale 2021 Ruby Frankie Fa una diretta Su YouTube E dice Ai suoi spettatori Ebbene Quest'anno Ho deciso Di fare un regalo Unico Ai miei figli Il non Natale Praticamente ragazzi Ruby Frankie Dice Di avere deciso Di cancellare Il Natale Per i suoi La cito testualmente Figli egoisti Vi riporto Le esatte parole Di Ruby Mi preoccupa Condividere questa cosa Perché non sono sicura Di come le persone Possano prenderla Di questi tempi Ma preoccupati Di come possono Prenderla I tuoi figli O di dove La prenderai tu Continuando così Kevin e io Abbiamo sei figli I due più piccoli Hanno mostrato Un crescendo Di egoismo Hanno mostrato Attraverso le loro scelte Una riluttanza Di pentimento Una riluttanza A provare dolore Per alcune scelte Che hanno fatto Per questo motivo Kevin e io Abbiamo deciso Che gli daremo Il dono della verità Per questo Natale Vogliamo dargli Il dono dei limiti E gli daremo Il dono Del pentimento Notare Questa retorica Ragazzi Apparentemente religiosa Il dono Della verità Il dono Del pentimento Ma il dono Del perdono Mai Anche perché Sono sicura Che qualunque cosa Abbiano fatto Siano già stati puniti Sul momento E in qualche modo Estremo Ma prosegue Rubi Così ci siamo seduti Con loro E gli abbiamo parlato Di quelle che erano Le nostre aspettative Ancora una volta E gli abbiamo fatto sapere Quanto fossimo Profondamente Addolorati A causa delle decisioni Che stavano prendendo E come Le loro decisioni Abbiano influenzato I loro insegnanti A scuola I loro coetanei La nostra casa I fratelli Glielo abbiamo spiegato Molto chiaramente E gli abbiamo detto Che quest'anno Non avrebbero Ricevuto la visita Di Babbo Natale Qualcuno chiami La polizia Non solo passi Un anno Nel terrore Nella minaccia Costante Che tua madre Ti punisca In modi Brutalmente creativi Senza amici Ogni tanto Senza cibo Per punizione Senza letto Senza la porta Del bagno Ma alla fine Dell'anno I tuoi genitori Ti privano pure Del Natale E ancora Rubi e Kevin Si aspettano Che i loro figli Si comportino bene Con loro Praticamente Cioè non so Se avete capito Ragazzi Quattro bambini Scarteranno i regali Mentre gli altri due No perché sono stati egoisti Se non sbaglio È così Che il Grinch Ha cominciato a scazzare E attenzione Come se non fosse Abbastanza crudele Portare via Il Natale Ai bambini Rubi e Frankie Considerate che questo video Lo mette online E questo è Umiliante Per i suoi figli Ancora una volta Per l'ennesima volta Vi invito A immaginare Immaginate Che vostra madre O vostro padre O un vostro tutore Quando eravate Adolescenti Avesse pubblicato Un video In cui parlava di voi E diceva Mia figlia Ha mostrato Un crescendo Di egoismo Ha mostrato Attraverso le sue scelte Una riluttanza Al pentimento Una riluttanza A provare dolore Per le scelte Per le scelte Che ha fatto Sono addolorata A causa Delle sue decisioni Quest'anno Babbo Natale Non la andrà A trovare Una cosa del genere È potenzialmente Dannosa Per la reputazione Di un adolescente E anche gli adolescenti Hanno il diritto Alla salvaguardia Della loro reputazione Cioè lei In questo video Sta etichettando I suoi figli Come egoisti E gli spettatori Potrebbero farsi Un'opinione negativa Sui loro figli Opinione Che potrebbe avere Un impatto Sul loro futuro Ma a lei Questo non importa La sua priorità È quella Di punire E umiliare Pubblicamente I suoi figli Per soddisfare Il suo bisogno Di controllo E dimostrare Ai suoi spettatori Di essere Una madre esemplare A questo punto Durante la diretta Si collega Con Ruby Una certa Jodie Chi è Jodie? Facciamo un piccolo passo indietro Ricordate cosa aveva detto Kevin Per giustificare I loro metodi educativi Vi rinfresco la memoria Ci siamo consultati Con professionisti Della salute mentale Ed emotiva Per anni E le cose che mostriamo E condividiamo E le cose che molti di voi Criticano E definiscono abusanti Sono in realtà cose Che i professionisti Della salute mentale Ci hanno consigliato Jodie Heidebrand È probabilmente La professionista Della salute mentale Di cui parlava Kevin È infatti Una life coach Nota per il suo progetto Connections Connections È una società Che offre ai genitori In difficoltà Consulenza Sulla salute mentale È plausibile Che Ruby Abbia incontrato Jodie in chiesa E che Jodie Si sia presentata a lei Come la soluzione Ai problemi Di disciplina Dei suoi figli Prova di questo fatto È la seguente Recensione Questa ragazzi È una recensione Che Ruby Ha lasciato Sul sito Di Jodie Connections Proprio In quel periodo Nel periodo In cui L'è salito Il Grinch E ha deciso Di cancellare Il Natale Valutazione 5 stelle Ruby Ruby Da 5 stelle A Jodie E scrive Le chiamate individuali Di Jodie E le lezioni di gruppo Sono state rivoluzionarie Per la nostra famiglia Credenze false Che persistevano da anni Sono venuti a galla In settimane Cosa che anni di terapia Non erano riusciti a fare Dirò Che chiunque ritenga Le tattiche di Jodie Discutibili Semplicemente Non è pronto Ad assumersi La responsabilità Delle proprie scelte Le sue tattiche Sono inviti A guardare Alla nostra onestà Responsabilità E umiltà In tutte le nostre scelte Ci torneremo Su queste tattiche Ragazzi Risposta di Jodie Grazie Ruby È così incoraggiante Sentire come la tua vita E la tua famiglia Siano state trasformate Attraverso Connections Grazie per aver spiegato Come Jodie E gli altri istruttori Di Connections Affrontano ogni sessione Ma a un certo punto Il rapporto Tra Jodie E Ruby Si evolve Ruby infatti Inizia a lavorare Per Connections Nel ruolo Di Fitness Mental Trainer In altre parole La stessa Ruby Fornisce Consulenza E strategie Per migliorare Il benessere mentale Che è come Assegnare Il ruolo Di insegnante Di cucina A Jeffrey Dahmer Ruby Frankie Entra a far parte Di Connections E infatti Ragazzi Non ve l'ho detto Prima Ma ve lo dico Ora La diretta In cui Ruby Parlava Di come Abbia deciso Di cancellare Il Natale Ai figli Va in onda Non sul canale Di 8 Passengers Ma sul canale YouTube Connections Di Jodie Di Hildebrandt E in collegamento Con loro Ci sono anche Famiglie Che ascoltano I loro consigli L'arrivo Di Ruby Frankie Fa decollare Il progetto Connections Ma parallelamente La sua gestione Della vita familiare Prende Una piega Ancora più Preoccupante Da questo momento In poi Le punizioni Di Ruby Frankie Diventeranno A dir poco Estreme Cioè Se fino ad ora Lei vi è sembrata Severa Credetemi Non avete visto Niente La filosofia Di Connections Ovvero La filosofia Di Jodie Hildebrandt Infatti È Particolare Diciamo Che ha un approccio Cioè propone Un particolare Approccio All'educazione Dei figli E In questa Filosofia Ruby Troverà Una sorta Di giustificazione Agli abusi Perpetrati Nei confronti Dei suoi figli È l'influenza Che Jodie Avrà su Ruby Sarà tale Che anche Jodie Hildebrandt Verrà alla fine Arrestata E non potrà Fare altro Che dichiararsi Colpevole Di abusi Aggravati Sui minori Tra cui La tortura Fisica Di due bambini Ma di Connections E della collaborazione Sinistra Tra Ruby Frankie E Jodie Hildebrandt Parleremo Nel prossimo Capitolo Detto ciò Fatemi sapere Cosa ne pensate Voi Fino a questo Punto Pensate che Ruby Sia stata Solo una Mamma severa O che già Ci siano A questo punto Della vicenda I presupposti Per parlare Proprio di Abusi Su minori Avete mai avuto Esperienze Simili Con un Genitore Nel tal Caso Mi dispiace Vi abbraccio Spero Spero che Gli psicofarmaci Vi stiano Aiutando Parliamone Nei commenti Ragazzi Che io Adesso Scendo Subito Giù A leggervi Vi mando Un abbraccio Grazie Per essere Arrivati Fino a questo Punto Del video Ci vediamo Prestissimo Con il Secondo Capitolo Della Hate Passenger Saga E A voi La linea